Perfetto, buonasera, mi chiamo Filippo Taddei, sono professore di economia internazionale qui a Johns Hopkins School of Advanced International Studies, per noi naturalmente è un piacere ospitare questa occasione di discussione sulla politica economica italiana, legge di bilancio e tutto quello che ci passa per il cervello adesso collegato, stasera abbiamo dei panelist come si dice in questa occasione di grande livello, almeno due su tre, sul terzo non garantisco e a cor, ovviamente del professor Boldrin, e con di a tutto questo la professoressa Graziella Bertrocchi ma prima di tutto vorrei passare la parola a Massimiliano Mariani, referente di Via l'Italia che è la mente dietro a questa nostra occasione. Grazie a tutti per essere qui. Grazie al professor Taddei, c'è poca mente devo dire, sono presente ma c'è poca mente. Io mi limito solo a porgere il benvenuto a tutti gli intervenuti e ai nostri relatori a questo evento che è stato organizzato appunto da Via Italia, che è un'associazione culturale che ha quale mission? Quella di federare le varie esperienze civiche presenti sul territorio nazionale. Ad oggi è riuscita a riunire una trentina di civiche a livello interregionale, quindi andiamo fieri di questo progetto. È un progetto che ha portato anche alla realizzazione di quelli che sono eventi formativi di cui oggi abbiamo qui un'espressione all'interno del progetto Academy dove la sfida è quella di affrontare i temi più importanti della nostra attualità in questo caso economici di forte attualità quindi proprio di questi giorni impostando il tutto con un metodo che ci deve aiutare a nostro avviso a orientarci nella complessità complessità della nostra società che ci richiede di trovare dei punti di riferimento delle costellazioni diciamo noi e a nostro avviso in una società definita della post verità cioè dove i fatti oggettivi molte volte vengono surclassati da informazioni che non hanno nulla a che vedere con la realtà oggettiva, a nostro avviso in questo inquinamento da informazioni l'approccio scientifico quindi la scelta del metodo scientifico deve essere privilegiata in quanto il prodotto del metodo scientifico è certamente da mettere al vertice della piramide delle informazioni che dobbiamo privilegiare quindi a nostro avviso il contesto abbiamo degli accademici ovviamente quindi al vertice del mondo accademico abbiamo le informazioni che a nostro avviso sono meritevoli di essere privilegiate nonostante ci troviamo in una società dove purtroppo il mondo accademico molte volte viene bistrattato sappiamo che c'è chi parla dei professoroni insomma in modo dispregiativo cosa veramente da condannare ma soprattutto noi crediamo che nonostante l'accesso alla conoscenza ormai sia potremmo definirlo quasi una conoscenza palmare cioè non per l'evidenza ma per la gestibilità all'interno dei nostri smartphone a nostro avviso è necessario riportare una gerarchia delle fonti di informazione per orientarci a dominare questa complessità quindi università come vertice e come centro della ricerca dell'informazione delle vera informazione e quindi quale migliore occasione di trovarci qui a Bologna Bologna che fu ovviamente è stata la sede della prima università del mondo occidentale fondata da studenti a proposito e che viene molte volte attaccata nonostante sia anche di oggi appunto la notizia che l'università di Bologna ha questo primato di studenti studenti aderenti al programma Erasmus quindi ha questo primato tra i 33 paesi aderenti al programma Erasmus che vengono scambiati quindi sia in entrata che in uscita all'università di Bologna quindi un altro primato certamente da rivendicare possiamo dire che l'altro aspetto che ci preme particolarmente è quello di offrire attraverso l'approccio scientifico e quindi attraverso i professori una risposta a quelli che sono i temi attuali quindi vengo a passare la parola a quelli che sono i nostri relatori che vi presento velocemente che ci introdurranno al tema di forte attualità il tema economico ovvero parleremo del documento di economia e finanza la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza la legge di bilancio oggi e in questi giorni in discussione appunto in Parlamento le prospettive di crescita e della politica economica i professori che oggi ci condurranno per mano appunto a affrontare questi temi così fondamentali per il nostro futuro sono, vado a delencarvi per chi ancora non li conosce in ordine rigorosamente alfabetico il professor Michele Boldrin della Washington University e della Caffoscari di Venezia il professor Andrea Roventini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa il professor Filippo Tadei che avete già conosciuto della John Hopkins che ci ospita in questa bellissima aula magna quindi direi un'occasione in più per godere di questo mondo dell'università che verranno moderati proprio per farvi capire anche quanto ci teniamo in tutta la dimensione di questo evento da un'altra professoressa della professoressa Graziella Bertocchi dell'Università di Modena e Reggio Emilia del Dipartimento Marco Biagi io chiudo questo mio intervento semplicemente richiamandomi a un inciso del discorso di insediamento anzi di rinnovo del mandato di Barack Obama del 2014 che diceva che gli Stati Uniti sono un grande paese sono un grande paese e hanno l'esercito più potente al mondo ma non sono un grande paese per il loro esercito ma sono un grande paese per le loro università grazie passo la parola alla professoressa Bertocchi buonasera a tutti il mio compito è semplicemente di coordinare di organizzare questo dibattito e di porre qualche parola ai nostri tre oratori porrò a tutti e tre la stessa domanda un paio di domande per movimentare un attimo la discussione e mi terrò su domande molto ampie che eventualmente loro stessi potranno declinare come preferiranno quindi comincerei con una prima domanda e darei a ognuno dei tre una decina di minuti mi permetterò di fermarli se nassero molto oltre dopodiché a una prima domanda un po' più generale farò seguire con una domanda più specifica su quello che è il tema di stasera dando ancora una volta sempre una decina di minuti poi ci sarà naturalmente tempo per domande vostre e le risposte degli stessi quindi partiamo da quello che è una domanda molto ampia qual è lo stato dell'economia italiana come la vedete voi da dove siete siete in istituzioni tutte accademiche di tipo abbastanza diverso una dall'altra lavorate in contesti diversi ma comunque come è stato detto in campo accademico ma con esperienze anche più o meno dirette anche fuori dall'accademia come l'audience sa quindi riuscite a inquadrare per noi stasera quello che è lo stato dell'economia italiana eventualmente declinandolo in due dimensioni considerazioni di lungo, medio, lungo periodo cosa è successo negli ultimi 20-25 anni e successivamente qual è la congiuntura cosa sta succedendo in questi ultimi mesi anche nel contesto internazionale cosa sta succedendo anche prima ancora di arrivare a parlare del DEF a seguito dei movimenti innegabili di tipo politico che si sono verificati quindi do la parola non so potremmo cominciare da destra poi fino a sinistra e cambiare l'ordine e quindi Filippo il risultato deve essere sempre in mezzo magari potrà iniziare con le domande ma siamo quattro economisti possiamo secondo me anche invertire possiamo provare molte cose bene allora do la parola a professor Roventini grazie tanto grazie ok innanzitutto grazie per l'invito per questo dibattito che sarà sicuramente molto interessante beh lo stato dell'economia italiana forse su questo saremo più dettagli d'accordo penso che non sia buono e non è buono sia dal punto di vista di lungo periodo che dal punto di vista di breve periodo lo vediamo anche negli indicatori cioè da quando si è creato l'euro il tasso di crescita dell'Italia è sempre più basso è sempre agli ultimi posti o è l'ultimo o il penultimo rispetto agli altri paesi europei e questo basso tasso di crescita dell'Italia deriva principalmente dal fatto che la nostra produttività non sta crescendo come quella degli altri paesi europei questo perché? questo succede perché quando si è rinunciati alle svalutazioni competitive che era un modo diciamo per mascherare da un certo punto di vista i problemi della nostra economia i nodi sono venuti al pettine e in tutta questa situazione l'Italia invece di sfruttare quello che in inglese viene chiamata la cosiddetta Windows of Opportunity cioè la possibilità di riformare la propria economia sfruttando il fatto che potremmo pagare dei tassi di interesse molto più bassi grazie all'entrata nell'euro non abbiamo fatto le riforme che dovevamo fare e quindi siamo in una situazione di fondamentale debolezza in tutta questa situazione è arrivata la crisi economica che ha colpito tutto il mondo direi ma in particolar modo l'Europa e l'Italia e questo ha accentuato già i problemi che ci sono in Italia questo anche perché il policy mix che è stato proposto che è stato consigliato a livello europeo cioè un mix di austerità fiscale e politiche per riforme strutturali per flessibilizzare il mercato del lavoro non ha rilanciato la crescita in Italia ora il punto non è tanto dire c'è ampia evidenza sul fatto che l'austerità fiscale non funziona nel senso non stabilizza il rapporto debito-pil però il problema è che di fronte a questa situazione l'Italia non ha messo le poche risorse che erano a disposizione dato che dobbiamo far fronte al nostro vincolo di bilancio per stimolare l'innovazione e la crescita della produttività quindi se guardiamo alcuni parametri ad esempio alcune statistiche sulla spesa della ricerca e sviluppo in Italia la ricerca e sviluppo in Italia sia a livello pubblico che a livello privato è tra le più basse o tra le più basse in Europa non si mettono soldi in università e nella ricerca e questo crea dei grossi problemi per il nostro paese unito a questo si è rinunciato per molto tempo a fare politica industriale in parte dovuto a mio avviso anche per lo smantellamento dei liri e con le privatizzazioni che non sono state fatte nella maniera giusta anche perché spesso queste imprese privatizzate la prima cosa che hanno fatto è stato ridurre la loro ricerca e sviluppo l'investimento in ricerca e sviluppo e un altro problema dell'Italia a mio avviso anche se siamo in Emilia devo dirlo è questo mito del piccolo e bello cioè che le piccole imprese sono sufficienti a trainare la crescita della produttività e dell'economia ovviamente le piccole imprese sono una risorsa ci vogliono però l'Italia manca anche una componente di grandi imprese quindi in questa situazione anche se negli ultimi vent'anni più o meno abbiamo fatto i compiti a casa dal punto di vista fiscale perché comunque l'Italia ha avuto degli avanzi primari in Europa che sono comparabili solo a quelli della Germania le poche risorse che abbiamo sono state spese bene e questo spiega perché non riusciamo a ripartire perché la nostra produttività è bassa e di conseguenza perché la nostra crescita del prodotto è basso quindi è una situazione molto rischiosa perché ci stiamo avvitando sopra noi stessi in tutto questo con la crisi è aumentato fortemente la disuguaglianza abbiamo una disuguaglianza che in Italia è molto grande non solo disuguaglianza nel reddito ma abbiamo anche una disuguaglianza molto grande territoriale tra nord e sud e una disuguaglianza molto grande tra giovani e vecchi quindi un'altra componente secondo me che denota che dà un indicatore che dà uno specchio del perché l'economia italiana è debole e dei problemi dell'economia italiana è l'immigrazione quindi tutti pensano tutto il dibattito purtroppo adesso è sull'immigrazione ma i veri problemi dell'Italia sono l'immigrazione cioè i nostri giovani soprattutto con qualsiasi livello di istruzione che devono immigrare e spesso immigrano dopo aver fatto un master dopo aver preso un PhD quindi questo dovrebbe essere un indicatore che secondo me dovrebbe essere utilizzato da ogni governo per come spia come indice come marker per far ripartire l'economia italiana e quindi per valutare l'impatto di eventuali politiche bene quindi do la parola a Filippo grazie grazie naturalmente a chi è venuta l'idea grazie a chi è venuto oggi soprattutto a voi che siete qui dunque tre economisti anzi quattro economisti che parlano dei problemi del paese vuol dire che la parola che viene pronunciata nel giro delle due frasi e produttività è già stata pronunciata quindi siamo tutti d'accordo il tema essenziale è questo pensare a come la politica economica che si sta realizzando possa intercettare il problema della produttività guarda cerchiamo di farlo in maniera intelligente che vuol dire non da economisti cioè vuol dire riconoscendo che c'è una validità del processo politico che va accompagnato il punto è quanto tu vuoi accompagnare il processo politico e quanto invece tu vuoi pensare a quelli che sono i tarli strutturali i difetti strutturali della nostra economia io vorrei che stessimo innanzitutto su una statistica una statistica secondo me essenziale per guardare al deficit quello corrente del nostro paese questa statistica ha a che fare con la composizione del nostro prodotto interno lordo se guardiamo la composizione c'è una componente che è assolutamente deficitare rispetto alla nostra storia che già ha i suoi problemi ma la nostra storia e quella componente deficitaria sono gli investimenti c'è stato un piccolo miglioramento negli ultimi il punto più basso l'abbiamo toccato alla fine del 2014 dove il 16,5% del nostro PIL era investito per darvi un punto di riferimento prima della crisi nel 2007 il 21,5% del nostro PIL era un investimento quindi c'è una differenza di 5 punti percentuali se non altro questo è un effetto di composizione cioè ti sto dicendo che dato quello che produciamo che comunque è di meno oggi lo era nel 2014 lo è anche oggi oggi più o meno siamo a 6% di valore della produzione al di sotto del livello che c'era per crisi e quindi manca un ventesimo di quello che producevamo ecco pur in questa grazia di torta più piccola abbiamo un problema di composizione cioè il paese in questo momento sta decidendo di destinare meno risorse alla costruzione del proprio futuro poi possiamo discutere su come queste risorse vengono impiegate possiamo discutere sull'allocazione degli investimenti il fatto che questi imprenditori privati che sono sostituiti ai pubblici facciano meno ricerca ma comunque sia ancora prima di arrivare là abbiamo un problema di dimensione e quindi se vogliamo parlare in termini di prospettiva la nostra diciamo quello che dovrebbe colpire la nostra attenzione dovrebbe essere innanzitutto questo come facciamo a recuperare o a continuare a recuperare questo deficit di investimenti oggi siamo al 18 e mezzo del PIL il che vuol dire che ci mancano ancora 3 punti di PIL a prezzi correnti vuol dire che ci mancano 54 miliardi ma scusate ci facciamo più di 50 miliardi ok di investimenti per tornare allo stesso livello di investimenti in proporzione che avevamo durante la crisi prima della crisi ora non è che quello fosse il ben godi come ci ricordiamo perché se voi tagliate l'Italia e la tagliate dal 2000 al 2007 già lì in termini di crescita del prodotto interno loro del reddito medio pro capita e reale eravamo il paese che faceva peggio peggio tra tutti i paesi dell'Ocse quindi già lì non eravamo messi messi bene ma se in più ci aggiungi il fatto che questo paese quello di oggi nel quale noi viviamo investe ancora di meno sul proprio futuro ci sono ragioni per essere ancora più preoccupati in questa fatta questa premessa a questo punto valutiamo le scelte no? perché la realtà è la realtà poi bisogna vedere come cerchiamo di cambiarla il problema se vediamo il difetto di questa legge di investimento e poi vi vorrei confessare perché queste cose avevano fatte o non è tanto o non è non solo se volete il livello di deficit che essa produce che è un livello di deficit che per la prima volta negli ultimi tre anni torna a crescere non è solamente questo il problema che avendo i problemi che vai conoscete abito pubblico rappresenta un problema in sé il problema è che la composizione di questo deficit eccessivo che noi andiamo a fare non parla di questo difetto di investimenti che dovrebbe essere invece il cuore del nostro problema cioè noi sappiamo perfettamente che questa l'abbiamo letto su tutti i giornali io vi guardo negli occhi so che voi siete una platea assolutamente non rappresentativa di quella che è l'attenzione media del paese sono tutte persone che ho sospetto si rovinino le giornate leggendo i quotidiani e approfondendo il che è un vostro problema siccome avete questo problema voi queste cose le sapete già cioè sapete già che c'è questa sproporzione nell'allocazione delle poste di bilancio questo è l'aumento del deficit rispetto a quello che era programmato del 1,2% del PIL è fondamentalmente allocato in un programma di trasferimenti che ha fondamentalmente voi sapete perfettamente già due pilastri il primo pilastro è un incremento di trasferimenti agli anziani in particolare attraverso un allentamento delle regole pensionistiche che è un problema è un problema perché è una scelta che costa poco più di 6 miliardi e un altro invece è un piano di alleviamento contrasto metterla come volete della povertà collegato ad un impegno per la riforma dei centri per l'impiego su quella del centro di l'impiego poi ne parliamo magari dopo so benissimo che tornerà questa cosa ma stiamo qui quanto sono gli investimenti pubblici ora un'osservazione saggia è osservare il livello degli investimenti pubblici a fine 2017 lo dice una persona che non è che abbia una particolare fiducia negli investimenti pubblici ma facciamo finta che siano la cosa centrale bene oggi noi giriamo alla fine del 2017 dove c'è stato un incremento rispetto al 16 del 12% di investimenti pubblici ci sono circa 34 miliardi di investimenti pubblici quindi a bilancio 2017 il paese dietro di noi quanto vale in meno rispetto al pre-crisi 20 miliardi in meno di investimenti pubblici quindi voi capite benissimo prima di tutto che se i numeri che vi ho dato se mancano 50 miliardi in prezzi correnti di investimenti totali se anche noi oggi portassimo gli investimenti pubblici al livello che erano in pre-crisi cioè gli aumentassimo di 20 miliardi avresti comunque un buon 30 e 8 miliardi di deficit da multare quindi il problema che tu hai in questo momento il problema primo di politica economica che tu hai è com'è che fai a ripristinare a dare una prospettiva tale per cui riesci a sprigionare quel 30 miliardi di investimenti pubblici cioè convincere le persone a fare una cosa un po' brutale cioè convincere le persone a investire a mettere soldi sul nostro paese ma non oggi a metterli oggi perché ci rimangano per anni a venire questo è il concetto degli investimenti compri qualcosa oggi per un beneficio che arriverà domani cioè quindi stai chiedendo alle persone non una di uscire con te a cena quando tu chiedi un investimento tu stai chiedendo un fidanzamento con la prospettiva del matrimonio quindi sapete quando tu inviti una cena magari una accetta adesso quando invece chiedi qualcosa di più impegnoso che abbia un impegno devi stare più attento devi infine una prospettiva in più cosa troviamo in questa legge di bilancio grande piano di trasferimenti per mandare la gente un po' prima in pensione grande piano per alleviare un problema molto importante nel nostro paese la povertà è crescita moltissimo nella crisi allivare nel senso trasferimento monetario tutto questo parla a chi deve impegnare il proprio futuro oggi investendo poco pochino allora tu pensi ok quanto è finanziato uno degli argomenti che viene avanzato è va bene ma c'è anche un potenziamento degli investimenti pubblici e qui arriviamo all'ultimo punto e qui scusate devo brutalmente utilizzare la mia passata esperienza politica quello che la legge di bilancio stanzia sono 3,4 miliardi divisi tra 2 miliardi dell'amministrazione centrale e 1,8 miliardi di enti locali ascoltatemi un momento perché veramente questa è una cosa che non ripeterò mai più nemmeno sotto tortura quando tu vuoi far finta di spendere soldi senza spenderli e sei un ministro dell'economia tu metti una posta di bilancio su investimenti pubblici perché perché sai perfettamente che c'è un livello di investimento pubblico che verrà realizzato facilmente tipicamente quello che ha a che fare con l'amministrazione centrale cioè se io do soldi ai ministeri i ministeri gli spendono abbastanza velocemente ma quando comincio a parlare di soldi agli enti locali comincio a parlare della seguente cosa posta di bilancio bando per gli enti locali applicazione ricorso allocazione se voi pensate che questi ultimi quattro passaggi siano eseguibili nell'arco di un anno fiscale vi assicuro che non vivete in Italia la controprova di questo è l'edilizia scolastica che è stata recentemente un fantastico progetto di un governo progressivo di grande valore che ci ha preceduto nel quale io non ho avuto nulla a che fare sto scherzando sto scherzando e ce l'ho scherzando sulla parte era una volta che volevo darti quasi ragione e quello che è successo è che l'edilizia scolastica erano 300 milioni non era grande cosa l'edilizia scolastica ha approvato i fondi per l'edilizia scolastica erano leggi di bilancio del 2016 avevamo i primi progetti operativi nel 2018 il che vuol dire che avremmo cominciato a farli visto che come guardate voi il calendario è il novembre 2018 abbiamo cominciato a farli nel 2019 vi ricordate sisma i bambini in sicurezza edilizia scolastica il 2016 2019 non vi preoccupate nel caso a vista dei dubbi questo è stato un progetto di investimento che è stato bloccato l'attuale governo per ripartire in un processo di allocazione che attraverso un centro di centralizzato di consulenza che si chiama questo e questo lo trovo eccezionale scusatemi Invest Italia attenzione un centro di supporto una struttura di missione all'interno della presidenza del consiglio io vorrei avervi portato con me dentro la presidenza del consiglio dei ministri a vedere una struttura di missione che sono 5 esseri umani come questi che siano in prima fila che fanno del loro meglio sono straordinari professionisti cominciano a ricevere una marea di cose insomma non butta benissimo se veramente gli investimenti sono quello che ci preoccupa bene grazie diamo la parola a Michele ok grazie sì mi ricordo la domanda grazie anch'io ringrazio sia Via Italia che la John Hopkins per l'invito e l'occasione allora provo Filippo la portata poi ci andremo sul diciamo vicino politico io vorrei portare un po' il dibattito indietro una prospettiva più storica perché perché credo che in una situazione come questa abbiamo un vantaggio fondamentale su il tipico dibattito pubblico di politica economica e le cause della crisi italiana che avviene in televisione e in altri luoghi ed è abbiamo tutti dei pc davanti abbiamo un attimo di tempo non ci parliamo sulla voce quindi proviamo a guardare un po' i dati e i fatti e cercare di mettersi d'accordo sui dati e i fatti perché una cosa che avviene spesso nel dibattito pubblico è un piccolo giochetti di retorica e piccoli spostamenti di date inventiamo un mondo che non c'è allora se devo cercare di capire prima di capire le operazioni di politica economica possibili che possano o non possano aiutare l'ammalato vorrei decisamente capire la malattia siamo tutti d'accordo che c'è un problema di produttività vabbè fin là ci stiamo però non credo siamo d'accordo sulle cause di questa cosa né quando inizi né quando dati fatti o minimo anche solo di senso comune senza sofisticati modelli economici perché su quelli poi si rischi di litigare sull'equazione numero 3.2 variante X quindi un po' di senso comune ci possano far sospettare da quando nasca la cosa allora una maniera credo che su questo siamo tutti d'accordo di misurare la tendenza della produttività a livello aggregato e calcolare questa famosa TFP che anche i non esperti ormai avranno imparato a nominare un po' come E uguale mc al quadrato che tutti sappiamo a memoria nessuno sa cosa voglia dire ecco la TFP è una misura che non vi sto a descrivere però piuttosto accettata della nostra ignoranza nel capire la crescita da un lato ma è anche una buona misura di quanto l'utilizzo dei fattori produttivi grezzi ore lavorate soldi messi in macchine capannoni e camion viene dal sistema imprenditoriale dai professionisti anche dallo stato di un paese utilizzato efficientemente dove efficientemente vuol dire usando le tecnologie più o meno migliori disponibili ovviamente più o meno nel senso che ogni paese ha le sue poi ci sono caratteristiche settoriali e con ritmi metodi che siano quelli più profittevoli o che riducono i costi per aiutare il prodotto è una misura orrendamente aggregata sia chiaro però devo anche dire dopo 35 anni almeno 40 di studio della cosa dai quattro angoli del mondo che alla fine regge come punto di partenza allora qui adesso lo giro spero riusciate a vederlo vedete la TFP italiana dagli anni 50 a questo dato di Fred arriva purtroppo solo fino al 2014 non so se riuscite a vedere questo grafico l'ottimismo è tuo incommovente ma a me è per il pubblico poi c'è una camera che funziona molto bene secondo me se inquadra un po' qui si vede ma guardate tanto non contro i dettagli la vedete questa è una curva che sale per un tot qui siamo agli anni inizi anni 50 poi raggiunge vicino al massimo poi come vedete da un certo punto diventa piatta oscilla piattina e poi tende ad andare giù 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 ecco allora il quesito interessante è dove dove è questo punto di massimo dove è questo punto di massimo qui ecco questo punto di massimo è fra il 75 e l'80 ok voi ne potrei mostrare delle altre senza far arrabbiare Filippo ce ne sono delle altre tutte le misure che abbiamo a disposizione dicono che a un certo punto negli anni 80 mettiamola così è sciocco che quelli che se ne escono con le date questi fenomeni ma sono sempre ridere chi se ne frega se è l'81 il 79 o la 84,3 è irrilevante il 14 marzo 1985 si è fermata la politica italiana no il punto è che a un certo punto nel tempo negli anni 80 le cose hanno cominciato a rallentare andare fuori posto gli investimenti hanno cominciato a essere o inferiori o nel tipo di tecnologie errone o arretrate eccetera eccetera la politica si è appiattita e poi ha cominciato a crescere come tutte le cose prima è appiattissimo noi che abbiamo una certa età vedo con piacere il vecchio amico e collega Tito Pietro che non vedeva una vita e lo ringrazio per la presenza grande economista potrebbe aiutarci allora punto numero uno la vulgata secondo cui l'è tutta colpa dell'euro è una stronzata io parlo molto francese come chi mi conosce sai quindi mi perdonarete se ogni tanto invece di utilizzare l'italiano l'inglese di grande moda utilizzare un po' di francese è una stronzata e va tolta dal dibattito pubblico con grande fermezza perché? perché induce discussioni sciocche perdite di tempo e improbabili carriere politiche dice Altroni la crisi della priorità italiana comincia e si rivela nei dati ai tempi di Bettino Craxi Spadolini non ha nulla a che fare con le austerità non ha nulla a che fare con l'euro non ha nulla a che fare con le bagianate che vengono regolarmente ripetute sui media nazionali oramai di regime sfido chiunque a provarmi i contratti è una sfida che noi su America abbiamo messo sul tavolo 14 anni 13 anni fa quando abbiamo iniziato dicendo signori il problema è qua era il 2006 e sta roba dura da 20 anni svegliatevi ne sono passati 13 12 e mezzo ed è ancora lì quindi il punto 1 è che è una storia vecchia quindi se vogliamo interrogarci da dove viene cominciamo a pensare cosa sia successo tra la seconda metà degli anni 70 più o meno e la fine degli anni 80 se vogliamo capire la bestia adesso Filippo non ti arrabbiare Filippo giustamente ha menzionato gli investimenti ha ragione gli investimenti sono uno degli strumenti che ti fanno crescere ci sono due tipi di investimenti come ci ha insegnato Schumpeter c'è quello che ripete fa copie di ciò che già esiste e il buon Joseph 110 anni fa l'aveva capito dice si può crescere si può crescere un po' come crescono le economie contadine che hai 12 vacche ne aggiungi una hai tre porcelli ne aggiungi mezzo lentamente lentamente allo 0,01 all'anno cresce se vuoi crescere ai ritmi al tempo suo sembravano altissimi dell'1-1,5% o quelli che siamo abituati noi magicamente del 2-3% hai bisogno non di fare gli investimenti di ieri hai bisogno di farli nuovi e qui la storia dell'innovazione che per un paese come il nostro sia chiaro che la Cina del Mediterraneo è da smesso di essere la Cina per diventare l'Argentina giusto a fine anni 70 inizio anni 80 questa in sintesi la mia analisi eravamo la Cina del Mediterraneo e siamo diventati l'Argentina del Mediterraneo allora per paesi come il nostro l'innovazione consiste fondamentalmente all'80% 90% copiare gli altri che sono alla frontiera e cercare di farlo bene magari che so facendo la Lambretta o la Vespa o la 500 invece della Model T e ha ragione Filippo gli investimenti sono andati ma non sono andati l'altro giorno di nuovo qui li vedete posso almeno tenerlo io tienilo grazie li vedete vedete questa cosa sono belli altri sono gli anni 50 60 70 poi vedete che vanno giù sono praticamente lì attorno ai numeri che diceva lui che sono giusti in media ciclo su ciclo giù dal dall'80% di nuovo guarda caso 75 80 ok altro indicatore che il problema evidentemente viene da lì come sono col tempo perché io mi fermo qui Presidentessa no l'hai così annoiata che sei distratta no no hai ancora allora no profitto nato sì lo so allora cosa voglio dire con questo voglio dire che se vogliamo fare una riflessione è meglio che sgombriamo il campo da queste cose l'austerità che non c'è i calcoli dell'austerità fatti a bilancio primario scordandoci gli interessi a me piacerebbe tantissimo fare il bilancio di casa mia ho ancora un mutuo su una casa piuttosto larghetta che acquisì in quel di San Luis e dire beh c'è gli interessi sul mutuo mica contano la casa la casa mai c'è perché diavolo devo pagare gli interessi sul fatto che quell'altro mi ha prestato x per centomila no insomma l'austerità non solo non c'è se voi fate l'integrale della spesa pubblica italiana dei suoi deficienti nel tempo e lo confrontate con quello di qualsiasi paese europeo scoprite che noi stiamo in testa forse ci batte la Grecia anzi senza forse lo sappiamo che ci batte però con la Grecia è più complicato perché gli è crollato il denominatore quindi si fa l'integrale dei valori assoluti per capita controllando per la popolazione l'impressione che vinciamo quindi direi che si tratta di togliere quella finta quella finta causa dal campo non solo perché non c'entra nulla con l'arco temporale ma perché proprio non esiste non è mai esistita e questo dovrebbe essere ovvio perché non è cresciuto solo il rapporto debito-pil in Italia negli ultimi 10 15-20 anni è cresciuto il debito il totale del debito e vi spiego un trucco il totale del debito cresce se e solo se si continua a far debito addizionale magia la magia dell'aritonetica e delle sommatorie è fantastica a volte rivela delle verità che evidentemente al giornalismo professionista di grandi economisti televisivi sfuggo però è così se continuo a sommare numeri positivi il totale cresce mannaggia quindi togliamo di mezzo questa cosa e proviamo a interrogarci sulla realtà dei cambiamenti strutturali politici comportamentali regolamentari del paese chiamato Italia dagli anni dalla fine anni 70 in avanti perché secondo me è lì che occorre fare la riflessione che è la ragione per cui la riflessione non si ama farlo perché è difficile perché è più complicata perché chiama in causa responsabilità un po' di tutti è troppo facile fare il giochetto e non me ne vorrà Filippo di puntare il dito a questo e quello ma quando io dico e l'ho detto in pubblico negli ultimi mesi lo ribadisco anche oggi che non c'è in realtà differenza qualitativa fra le follie di pseudo politica economica del governo rosso-brunato quello attuale che è rosso e brunato con le camicie brunate e quello precedente che era Rosé la differenza è quantitativa ma dal punto di vista qualitativo siamo alle stesse politiche economiche oserei dire la stessa narrativa i pugni a Bruxelles le austerità noi ci permettiamo di spendere ce ne freghiamo non prendiamo ordini da questo e quello non è solo quel pagliaccio di Salvini a dirlo per primo hanno detto altri prima di lui e via elencando e via elencando se voi guardate alla qualità della politica e al discorso su cui che viene costruito che viene spiegato agli italiani non è cambiato è cambiata l'intensità e sia chiaro da Bonex e Engheliano i cambiamenti quantitativi a volte diventano qualitativi è possibile che esagerando sempre sullo stesso tasto si faccia un cambiamento qualitativo però cerchiamo di essere realisti di non inventarci regolarmente a ogni cambio di governo a ogni svolta ciclica a ogni riorientamento che tutto viene da questo ultimo perché come anche giustamente ci ha spiegato Filippo e concordo un'altra delle riflessioni che vanno fatte da quelli che cercano continuamente magici moltiplicatori la spesa pubblica specialmente quella per investimenti alla natura che ha descritto Filippo e Filippo ha descritto addirittura dei processi rapidi perché questo di tre anni è molto rapido ok se dovessimo provare a calcolare la stesso ritardo nella media della spesa pubblica anche per investimenti in Italia troveremo numeri ben superiori a tre anni troveremo cinque troveremo sei e mezzo troviamo numeri di questo tipo qui facendo le medie quindi quelli che cercano scioccamente reazioni istantanee un trimestre dopo fra variazioni della spesa tra l'altro nemmeno a consuntivo ma a non mi viene la parola in italiano grazie nel PIL del trimestre seguente sono nei pagliacci a cui va detto guardi lei è un pagliaccio non sa di cosa parla stia zitto no ma uno vale uno no capito bisogna avere il coraggio di liberare se vogliamo salvare il paese bisogna avere il coraggio proprio il coraggio e anche l'onestà morale intellettuale di dire ai pagliacci stai zitto sei un pagliaccio stai mentendo stai cercando di costruire un discorso di politica un'analisi della storia d'Italia che è falsa e io mi rifiuto di accettarla perché è falsa i numeri vanno sbattuti sul naso quotidianamente a costruire se non si parte da qua noi possiamo discutere sugli 80 euro su l'autorizzazione dell'evasione fiscale che contiene l'ultimo DEF quanto vogliamo non ne usciamo non ne usciamo dobbiamo mettere in discussione 40 anni di approccio alla politica economica italiana il tuo tempo ma ti do subito la parola perché abbiamo deciso di cambiare l'ordine quindi e la domanda è la domanda ovvia che è un po' il cuore del dibattito di oggi che c'è stata soprattutto da Filippo Taddei è stata già in parte affrontata ma sono sicura che avrà altro da dirci anche dalle segrete istanti in cui è stato recentemente comunque la domanda è quindi questo DEF come lo vedete come lo valutate in particolare come valutate quelli che sono o avrebbero dovuto essere i tre pilastri ovvero il reddito di cittadinanza la flat tax e la riforma della riforma Fornero sulle pensioni in relazione anche come le valutate a quelle che erano le promesse elettorali sia dei partiti presi uno per uno fino al contratto quindi ricostruire un po' quella che è stata la storia recente anche dal punto di vista della commissione tra politica e economia e cosa voi avreste fatto alla luce dell'analisi che avete illustrato su quelle che erano le radici diciamo della situazione attuale dell'Italia e anche gli ultimi aspetti più congiunturali quindi come d'accordo se vi va bene cominciamo adesso da Michele Boldrin e vi do sempre una decina di minuti in modo da avere un po' di tempo poi per delle altre domande ok allora telegraficamente cosa avrei fatto comincio da qua ma avrei fatto avrei cominciato a fare alcune delle cose che con tanti amici e colleghi ci inventammo anni fa e abbiamo avuto occasione di proporre svariate volte perché mi sembrano sempre le stesse avrei cominciato con riformare il sistema pensionistico togliendo l'età di pensionamento minima massima e introducendo un criterio attuariale banale vuoi andare a ripensare quando vuoi ti calcoliamo la vita attesa per il tuo gruppo tipico non individuale perché non si può calcolare ok e in base al capitale che hai accumulato con il contributivo sino ad oggi questo è il capitale se vuoi stare in pensione ma in pensione adesso hai 60 anni cioè l'età mia 62 anni credo che la mia vita attesa sia dati, parametri i miei fisiologici età, razza bla 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 28 una roba del genere e dispalmeremo questo tuo capitale accumulato sui 28 fine questa mi sembra la riforma pensionistica da fare assieme a quella di cui si è discusso e occorre mio padre era 91 quindi sono ancora sotto media in famiglia e niente basta l'altra è fare questa cosa cercando di garantirsi che non cadiamo regolarmente ma credo che la corte costituzionale stessa adesso non mi ricordo più la sentenza non mi ricordo che molto chiaramente spiegava i vari attacchi io non ho grande simpatia per i giudici costituzionalisti italiani ma in quell'occasione devo dire che sono stati molto franchi hanno detto guardate credo fosse un provvedimento meglio non sarà un provvedimento Tremonti o altro forse non puoi aiutare una cosa di qualche anno fa ma insomma era molto chiaro volete farlo si fa così non fate queste cose che tagliate un pezzettino uno perché ovviamente violate banali principi costituzionali se lo fate erga omnes per davvero c'è una maniera di farlo e poi lo potete modulare se volete punire alcuni gruppi più che altri perché ritenete che alcuni gruppi siano stati ingiustamente privilegiati lo potete fare ma c'è una cosa banalissima delle civiltà liberal democratiche le leggi si fanno possibilmente in modo anonimo e cioè che definiscono tipologie di esseri umani e non il mio frammico Tito Pietra e colpisco solo lui se devo farlo lo faccio in privato allora questa mi sembra la prima cosa da fare in questo paese purtroppo questo DEF fa esattamente l'opposto ma non è che mi sorprenda fa cose che sono nell'aria da tempo tutte le altre cose da fare sono tutte cose che richiedono anni e andrebbero annunciate credibilmente andrebbero costruiti meccanismi di credibilità nel commitment e vi posso garantire che sono le cose e su questo possiamo discutere perché l'esperienza storica non solo teorica su questo argomento è assolutamente overwhelming dominante che poi ti fanno ripartire gli investimenti la fiducia gli investitori quelli da fuori che sono disposti ad arrivare qua dovresti cominciare a dire sì voglio cominciare a spendere la scuola progressivamente non solo nel piano di edilizia ma anche cominciando a riformare i meccanismi di reclutamento voglio trasformare l'arco di un quinquennio un settennio probabilmente l'università italiana facendolo assomigliare al sistema universitario lo dico brutalmente per stare dentro i dieci minuti della California per dare un esempio banale in che è un sistema fondamentalmente pubblico con un po' di roba privata ma fondamentalmente pubblico con finanziamenti pubblici e sostanziali con una certa meritocrazia nella concessione di borse di studio eccetera eccetera ma che accetta il fatto che non tutti possono essere Berkeley o UCLA alcuni devono essere Cal State Long Beach che è un'università che vorremmo averne in Italia probabilmente migliore del 94% delle nostre ma non è Berkeley e UCLA ha criteri diversi paga diversamente la gente lavora diversamente e l'allocazione del personale avviene così credo che questo darebbe una botta di credibilità al paese gigantesca e renderebbe più raro andare a passeggio per Shanghai come è successo 15 giorni fa uscendo a un ristorante con un gruppo di collegi cinesi e venire fermato da immigrati 35 anni italiani scappati dal paese perché qua ho lavoro e riesco a utilizzare la mia specializzazione avrei fatto questo qua sul debito di cui tu ti discuti io ho notoriamente una posizione strana sul debito forse per causa di questa è una battuta per economisti deve essere stato per un po' di tempo allievo di Robert Barrow io non sono ossessionato dal debito ieri ne discutevo con Carlo Cottarelli per l'ennesima volta ormai siamo diventati una fixture Carlo ha il classico approccio IMF che esagera sono troppo convinti da quel libro un po' troppo popolare di Ken Rogoff e Carmen Reinhardt il debito è quella cosa che ormai l'hai fatta te lo devi gestire non è che lo devi ripagare devi rendere credibile il fatto che lo servirai non mi stancherò mai di ripetere i debiti pubblici non si ripagano nel senso di restituirli e portarli a zero i debiti pubblici per carità in fase di espansione dovresti cercare di farli calare per avere spazio per poi farne invece di debito quando ne hai bisogno ma al di là di quello che sono oscillazioni cicliche attorno a dei livelli poi acquisiti i debiti pubblici i debiti pubblici si servono e si rendono credibili garantibili e solidi con politiche fiscali di lungo periodo che tali siano le critiche che tutti continuano a fare sciocche ai tedeschi che adesso hanno il surplus di bilancio pubblico sono sciocche oltre a che in cattiva fede perché i tedeschi stanno facendo i chinesiani veri non gli straccioni i chinesiani veri andate a leggervi i chinesiani veri alla solo Modigliani Samuelson 1960 dice che la politica fiscale deve essere counter cyclical counter cyclical vuol dire che quando cresce il PIL fai surplus ma non senza interessi all included cioè risparmi metti via qualcosa poi puoi decidere se metti via lo 0,1% del PIL l'1 o il 3 ok metti via perché perché invece quando hai recessione vera di botta vai in spesa ma non vai in spesa promettendo i ponti fra 4 anni vai in spesa pagando sussidi di disoccupazione vai in spesa nel caso negli Stati Uniti noi se ci avessimo un sistema federale faremo lo stesso sussidiando la spesa corrente delle state e nei nostri casi regioni ai quali imposto vincolo di bilancio questa è la politica classica keynesiana che non voglio neanche mettermi a discutere se davvero ha funzionato miracolosamente o non ha funzionato certo non ha fatto danni e probabilmente un po' aiutato negli anni 50 60 inizioni 70 ok quindi questa ipocrisia dei tedeschi cattivi è una di nuovo francese stronset è una francese venezianizzato questo quindi questo avrei fatto queste cose qua qui l'elenco è lungo ovviamente ma sulla scuola e l'università secondo me è fondamentale assolutamente fondamentale avrei anche promesso che magari le agenzie regolatorie italiane smetto di trattarle come degli strumenti del potere politico e pagliacciate mi sarei compromesso a mettere in consov sì la scelta personale di Nava di non volersi dimettere non è stata una grande idea ma non metterei un galloppino di partito che scrive cose false sullo spread dalla mattina alla sera che per di più è pure dipendente dal consov metterei un signore ce n'è ce n'è di cittadinanza italiana se proprio abbiamo bisogno di cittadinanza italiana tra l'altro niente ci vieta mettere un francese uno spagnolo è un signore degno capace o una signora degna capace e di specchiata indipendenza a fare quel lavoro lì che ce n'è bisogno ecco queste cose farei cosa hanno fatto? ma ieri ai ragazzi di Cafosco che mi sono incontrato dicevo guardate provate a pensare alla questione debito no? e cioè questo DEF cosa fa? qual è l'argomento che vedo arrivare dai vari signori governativi diceva ma dobbiamo prendere a prestito per rilanciare l'economia e i consumi lasciamo stare il fatto che anche ieri l'ho mostrato questa cosa dei consumi che sono calati è un'altra bugia non è vero devo tirare un altro dato i consumi in realtà sono cresciuti in percentuale del PIL sia quelli pubblici che quelli privati in Italia questa compressione dei consumi è un'altra balla inventata dal giornalista di turno e ripetuta da tutti come anatre ma comunque se il problema è far consumare qualcuno andando a debito perché alla fine strucca strucca questa idea prepensionamente perché tali sono condoni fiscali pseudo reito di cittadinanza e altri sussidi vari hanno alla radice una cosa semplice vado sul mercato dei capitali da qualcuno che ha liquidità che ha un po' di risparmio se è su italiano straniero non importa mi indebito il famoso 2,4 che scoprirete ci rivediamo qua fra un anno io butto un numero sarà 3,4 sarà molto più vicino al 3,4 che al 2,4 ok mi indebito per alcune decine di miliardi e queste risorse che ricevo le do a queste persone in modo che le spendano nel loro consumo quella è una maniera poi c'è un'altra maniera di fare la stessa operazione e cioè lasciare che qualcuno vada a indebitarsi magari per allargare un'azienda magari per strutturare un capannone in più magari nuovo o cominciare un'azienda nuova completamente nuova e lo faccia a debito perché al capitale iniziale lo fai a debito quindi ti indebiti ok ti indebiti con le stesse persone di fatto con strumenti non uguali perché non ne metti non essendo tu il ministro del tesoro non puoi emettere botte cct e cose del genere devi emettere obbligazioni tue fiduzioni bancarie svariati strumenti con cui ti indebiti con queste cose in realtà cos'è che fai? consumi in un certo senso pensate a un'azienda che comincia o che in realtà consuma slash investe in parte consuma perché paga dipendenti ingegneri operai quello che volete voi conduttoria perché mangino ricevono uno stipendio facciano consumino finché cominciano a produrre organizzano le cose il prodotto fino a un certo punto arriverà si comincerà a vendere quindi consumi a credito esattamente la stessa cosa parte ovviamente di questo credito invece si trasformerà in impianti macchine automobili furgoncini che so uffici a Basilea o dove tocchi per vendere questo e quello alla fine però di questa operazione di consumo mentre nel secondo caso il consumo c'è stato ed è finito alla fine di quest'altra c'è qualcosa non solo c'è un prodotto finito che arriva sul mercato e si vende che se l'hai fatto decentemente ripaga e compensa il debito acquisito ma lascia qualcosa e ho usato l'immagine con lo scalino lascia uno scalino su cui puoi mettere i piedi per andare su la prossima volta perché ti lascia un impianto un capannone tre ufficine non lo so 12 persone che hanno imparato un lavoro lo sanno fare leggermente meglio di ieri ecco questo secondo me è la differenza per chi è tecnico questa roba la chiamano crowding out se adesso qualcuno vuole spiegarmi che il crowding out non esiste io potrei anche seguirlo ho già menzionato che sono un allievo di Robert Barrow e sono sempre molto diviso nel guardare i dati fra crowding out e cardian equivalents ma questa è cosa per tecnici dal punto di vista politico questa è la grande differenza questo è quello che avrei fatto avrei cercato di costruire opzioni per la seconda maniera di utilizzare quel 2,4 che sarà 3,4 di credito e non quella che invece è stata scelta che è puro accattonaggio Michele mi sono scritta 3,4 si accettano altre scommesse e tra un anno le verifichiamo quindi diamo la parola adesso ancora a Filippo per te dunque se per valutare le tre diciamo i tre trattati definitori di questa legge di bilancio cioè flat tax riforma della fornero e reddito di cittadinanza vi devo spiegare perché sono perché sono una riedizione di perché appunto perché qui sono drammaticamente d'accordo con Michele spero che non sia un problema è un problema di quantità di quando tu cambi la montare di buone idee le puoi rendere cattive idee la flat tax ovviamente non è la flat tax la flat tax è semplicemente un'estensione di quello che tecnicamente è il regime forfettario dei minimi cioè vi ricordate che tanto tempo fa cioè qualche anno fa governo Tremonti all'inizio questa idea del fatto che ci sono dei lavoratori indipendenti che sono deboli perché guadagnano poco e che andavano sostenuti allora gli davi un regime appunto gli davi un regime speciale di tassazione questa idea è rimasta fondamentalmente nel dibattito pubblico e pian pianino è stata ripresa ammontata è cambiata fino a rimanere anche nell'ultima scelta di governo dove quel regime forfettario è stato introdotto con l'idea di sostenere guardate bene questa cosa in pratica sostenere lavoratori indipendenti cioè il popolo delle partite IVA si direbbe in alcuni contesti a pagare un livello di tassazione inferiore che cosa vuol dire in pratica se hai detto bene se tu hai ricavi tra i 30.000 euro all'anno ricavi non reddito imponibile e 50.000 euro a seconda del settore in cui sei noi ti daremo una tassazione agevolata perché? perché ti riteniamo debole un lavoratore che fa fatica a mantenersi e quindi debole ti diamo uno strumento di sostegno con lo stesso tipo di implicazione per cui non so tu dai una detrazione sul reddito del lavoro dipendente e dici guardi sulla prima tranche sui primi 8.000 euro noi non ti tassiamo perché sei debole ti sospendiamo la tassazione è lo stesso principio trasformato e applicato al lavoro autonomo questo del regime forfettario in cui tu dici è semplicemente quello adesso è stato gli è stato cambiato il nome ed è diventata la flat tax ma è lo stesso tipo di principio siamo passati da 30-50.000 euro a 65.000 euro di ricavi sono cambiate al margine alcune cose che hanno a che fare con quello che tu puoi scorporare considerare per essere per competere o meno e ti dico su questo io ti pago il 15% anzi tu devi pagarmi il 15% di tasse questa è la flat tax è un'estensione del regime forfettario ok solamente che capite che cambia estendendo la politica ne cambia anche la natura perché se io vi faccio un regime forfettario perché guadagna fino a 12 milioni di euro no è la stessa cosa è la stessa cosa che c'era prima se non che adesso la applichiamo a una platea di contribuenti molto diversa in condizioni molto diverse e quindi quello che era uno strumento nato per difendere partite IVA deboli tipicamente all'inizio della propria carriera o in diventano adesso uno strumento di massiva distribuzione fiscale ovviamente questa flat tax non è l'una o nell'altra cosa è semplicemente un giochino di aggiustamento al margine per fare un bricio di propaganda infatti conta pochissimo se voi guardate il costo il costo di questa legge di bilancio costa poco più di un miliardo cioè niente capite è una cosa per cui se io fossi un partner di governo che prenda maggior parte dei propri voti nel nord Italia sarei in imbarazzo anche solo a parlarne tanto che hanno dovuto immediatamente rilanciare hanno detto ah beh quest'anno è così voi non vi preoccupate dal 2020 sarà fino al 100.000 però con la liquida al 20% secondo me lo fanno anche perché chi ci sarà poi nel 2020 poi lo andiamo a vedere ma questo è un altro discorso quindi la flat tax non è altro che l'edizione sotto altra forma di un principio se volete anche giusto però totalmente snaturato dal cambiamento della politica la fornero il cambiamento della fornero guardate io secondo me lì Michele e qui viene di senso con Michele per fare quello che propone Michele cioè il fatto che liberi tutti che per inciso il sistema contributivo che vale dalla mia generazione in giù quindi quelli che hanno meno di 45 anni che siamo in contributivo pieno possiamo andare in pensione grosso modo quanto ci pare a meno che con una condizione fondamentale però il nostro la pensione attesa che noi andiamo a ricevere deve essere superiore a una volta in mezzo il trattamento di pensione minima questa è l'unica regola che c'è però per chi è in contributivo questo vale quello che Michele suggeriva prima è facciamolo subito facciamolo non solamente per quelli che sono relativamente più giovani cioè dai 50 anni in giù per essere precisi ma facciamolo per tutti questo paradossalmente garantisce l'equità intergenerazionale però ti crea un problema e questo lo rende da un punto di vista proprio concreto di un'applicazione non banale ti crea un problema di esborso aggiuntivo corrente che in italiano vuol dire ti crea spesa aggiuntiva oggi che non è una cosa di cui abbiamo bisogno per cui io vi dico fratelli e sorelle teniamo la fornero sacra e salda perché almeno ha un principio di equità intergenerazionale fondamentale che è siamo uno dei pochi sistemi che ha l'allacciamento dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita automatico io questa cosa la sottolineo sempre noi siamo automatico in America vale ma ci vuole una decisione del congresso non so se è chiaro ed è una decisione molto impopolare molto difficile non a caso non l'abbiamo fatta in un momento di collasso del paese o di presunto tale questo per dire per dire però però c'è un problema fondamentale di questa scelta di allentamento della fornero la quota 100 cioè dire a un 62enne con 38 anni di contribuzione che può andare in pensione ora guardate io ce n'ho uno di questi che lavora al bar qui da noi e tutti i giorni me lo dice ce lo vivo sulla mia pelle se è una cosa io non ho fatto un giorno della mia attività politica senza passare in transatlantico e avere un parlamentare di un qualunque gruppo politico che mi si avvicinava e gli diceva però la fornero andrebbe cambiata quindi lo capisco la persona capisco quanto è forte la persona politica per la fornero però bisogna resistere bisogna resistere sulla base di un semplice principio se tu allenti la fornero per una generazione cioè se tu dici a chi può andare in pensione nel 2019 che ci può andare in pensione con 62 anni di anzianità e 38 anni di contributi che vuol dire che ha cominciato a lavorare a 24 anni ok questo ha fatto almeno forse prima con qualche buco ma ha cominciato da 24 anni avanti se tu vuoi dire questa cosa devi almeno avere il coraggio di dire che deve valere per tutti gli altri deve valere per quelli che vanno in pensione nel 2020 21 22 e anche per quelli come sottoscritto che vanno in pensione nel 2045 ma siccome questo non lo puoi dire perché sappiamo tutti che non lo puoi dire con la dinamica demografica di questo paese allora non lo puoi fare non lo puoi fare solo a base di un semplice principio di equità tra le generazioni se vale per una generazione allora vale per tutti e se non può valere per tutte le generazioni non lo puoi fare nemmeno per una questa è la cosa che io sono allibito perché non venga ripetuto ossessivamente è semplice è solo una roba di equità se tratti le persone in condizioni uguali in maniera diversa è un'ingiustizia e se stai facendo questo stai facendo un'ingiustizia bella e semplice reddito di cittadinanza perché il reddito di cittadinanza ci farà perdere un sacco di tempo non perché la povertà non sia un problema la povertà in questo paese è un problema gigantesco ci sono grandi distribuzioni ora noi ci abbiamo messo a proposito del ritardo di scelta di questo paese noi ci abbiamo messo reddito di reddito economico di inclusione il cosiddetto REI è una legge dello Stato del 2016 ci abbiamo messo tutto il 2017 per implementarlo e comincia a essere effettivo nel 2018 e sapete qual era la cosa difficile? la cosa difficile era fare i decreti attuativi che indicano le praticamente che indicano quali sono la platea esigibile cioè la platea di persone che possono ricevere quel contributo ci metti una marea di tempo a mettere in campo quell'infrastruttura collegare quell'infrastruttura alle agenzie ai centri per l'impiego o alle agenzie del lavoro guardate che questa è una cosa che può sembrare banale ma è difficilissima perché quando tu la devi fare non devi mettere in accordo con un'agenzia come sarebbe normale in un paese normale ma per un in conseguenza anche una delle conseguenze di un referendum costituzionale che è stato che è andato in un certo modo a cui Michele teneva molto ma adesso adesso non torniamo abbiamo questo fatto che qualunque cambiamento tu vuoi fare devi coordinarlo con 21 agenzie del lavoro e dico 21 perché naturalmente Trento e Bolzano hanno due agenzie diverse per non farci mancare nulla il che vuol dire che ci metti una marea di tempo a farlo se io oggi vi dico la cosa facile da fare se tu vuoi fare il reddito di cittadinanza si fa così si fa utilizziamo il REI aumentiamo la platea di persone mettendoci più soldi e ci metti puoi fare quello che vuoi puoi modulare la platea puoi includere più persone puoi aumentare il beneficio è tutta una questione di soldi come direbbe mia nonna è tutta una roba di denaro solo denaro parliamo di questo vogliamo mettere del denaro per la lotta alla povertà parliamo di aggiungere denaro al REI se adesso vogliamo perdere del tempo a chiudere il REI come c'è nella legge di bilancio aprire il reddito di cittadinanza per fare la stessa cosa identica del REI cioè fare un non è un reddito di cittadinanza perché means tested cioè si basa sulla condizione effettiva economica effettiva delle persone è condizionale cioè per ricevere quel contributo tu devi aderire a dei programmi di formazione di attivazione legati al centro per l'impiego cioè esattamente come il REI è identico al REI se devi fare una roba identica al REI fai il REI potenzia il REI mettici dei soldi perdi meno tempo lo fai in maniera più efficace e magari riusciamo anche ad essere ad essere un po' più precisi perché sennò dobbiamo discutere della seguente cosa tra le altre nel REI come tutti gli strumenti condizionali di sostegno prevede il fatto che di sostegno e di contrasto alla povertà prevede che tu possa rinunciare rifiutare un'offerta di lavoro ma non due adesso le offerte di lavoro sono diventate tre cioè puoi rinunciare a due la terza la devi prendere offerte di lavoro congrue no? vedi c'è un piccolo problema in fare questo io vorrei che voi incontrasti questi beneficiari non sono persone che vivono a immagini della società a parte i casi voglio dire plateali di abuso cioè di gente che sono evasori totali che riescono a fare dei giochini ma sono veramente una minoranza la maggior parte di queste persone sono persone che funzionano che hanno avuto la seguente vita che non hanno nulla a che fare con questa platea che noi non vediamo mai nella nostra vita sono gente che vive in pezzi marginali della città lavorano da 15 anni facendo dei lavori minimi prendendo dei 300 400 euro in nero per assistere qualcuno ai margini del mercato del lavoro a uno così o a una così veramente veramente noi pensiamo che gli arrivi un'offerta di lavoro lo pensiamo cioè lo pensiamo senza pensare che prima ci sia da fare un'operazione semplicemente gigantesca su quello che è la struttura di sostegno di formazione tutto quell'investimento tutte cose che qui non ci sono ma non ci sono non ci sono in questa legge di bilancio non ci sono nel programma di riorganizzazione e per inciso quando il governo adesso vi dice che riorganizza i centri per l'impiego dovete sapere tutti una cosa molto semplice se anche il governo domani volesse volesse fare non so il minimo sindacale che è uniformare la banca dati delle offerte di lavoro tra il centro per l'impiego di Bologna di Modena scusate di Mantua province confinanti territori non proprio distantissimi economicamente non lo può fare se volesse imporre questa un'informazione non lo potrebbe fare anzi sarebbe incostituzionale quindi il problema è un po' più grande ed è troppo grande per perdere altro tempo ridefinendo lo strumento ancora una volta cambiandogli il nome per ottenere lo stesso scopo almeno a parole passiamo la stessa domanda ad Andrea Roventini avevo parlato una più difficile perché è stato un mio studente a Modena ma poi mi sono ammansita quindi è la stessa domanda identica no l'ho pigiato l'ho pigiato adesso posso pigiare il bottone allora la domanda è cosa mi piace di questa legge di bilancio cosa non mi piace e cosa avrei fatto beh allora diciamo in questa legge di bilancio ci sono delle cose che chiaramente non mi piacciono sono molto contento che almeno leggendo i giornali di stamattina sembra che il condono fiscale non sia più presente spero che non ritorni in nessuna forma un'altra parte di questa legge di bilancio che non mi piace assolutamente è la flat tax che poi non è flat tax non si capisce perché ormai viene chiamato tutto flat tax quello che non è flat tax ma è semplicemente come diceva prima anche un aumento un allargamento del regime forfettario per fortuna anche su questo sono state messe veramente poche risorse ed è un provvedimento che potrebbe anche creare degli abusi perché è ovvio che se si aumenta a dismisura il regime forfettario ci sono degli incentivi a trasformare dei lavoratori dipendenti in lavoratori autonomi quindi non vorrei vedere questi tipi di abusi l'altra cosa che non mi piace è la quota 100 e in particolare come viene fatta adesso cioè la quota 100 per tutti perché mi sembra una misura che costerà e non costa solo quest'anno ma avrà un costo per tutti gli anni futuri è una misura che allo stesso tempo non rilancia la crescita perché penso che su questo siamo tutti d'accordo non c'è un rapporto uno-uno fra chi se ne va in pensione e le assunzioni delle imprese se si voleva correggere la riforma Fornero e si voleva si poteva farlo si poteva farlo al margine ad un costo molto esiguo tutelando le categorie più deboli sto pensando ad esempio a potenziare a dare maggiore flessibilità a chi svolge lavori usuranti o chi svolge lavori gravosi e via dicendo questo avrebbe aumentato l'equità senza gravare sui conti pubblici il reddito di cittadinanza è una parte della manovra che a me personalmente piace nel senso che è una misura di contrasto della povertà all'Italia mancava in Europa una misura di contrasto della povertà il governo precedente ha introdotto il REI secondo me è stata un'ottima riforma un'ottima politica introdotta dal governo precedente il REI purtroppo è stato sottofinanziato perché viene data una cifra esigua quindi a questo punto se vogliamo contrastare la povertà di nuovo per una questione di equità c'è da vedere come farlo e qui il dibattito secondo me è un dibattito aperto che è ancora aperto cioè se potenziare il REI come fare il reddito di cittadinanza e via dicendo secondo me collegato al REI ci dovrebbe essere o reddito di cittadinanza ci dovrebbe essere sicuramente un'attività di formazione perché sono d'accordo con Filippo spesso queste persone che ricevono il REI io ad esempio le ho viste magari non in Italia ma le ho viste ad esempio in Brasilia o in altri paesi non sono non sono fannulloni non sono persone che non lavorano sono di fatto persone che lavorano ad esempio molto più di me che si arrabattano per arrivare a fine giornata quindi secondo me oltre a un contributo monetario se uno può svolgere un'attività di formazione per cercare di farli uscire da questa situazione io sarei personalmente molto contento c'è una componente molto in questa finanziaria molto esigua sugli investimenti si dice che si mobilizzeranno gli investimenti accantonati dalla legge di bilancio precedente in ogni caso quanto è stato messo a favore degli investimenti per me non è tanto l'Italia comunque al di là di tutti i problemi che ci sono con gli investimenti ed è vero che ci sono dei problemi perché ci sono dei ritardi temporali un altro problema collegato agli investimenti lo sappiamo benissimo è la corruzione però l'Italia ha bisogno di investimenti in infrastrutture sotto gli occhi di tutti e diciamo su questo i moltiplicatori sugli investimenti anche se ci vuole del tempo sono buoni anche al netto dei diversi livelli di corruzione almeno questo è quello che dice il Fondo Monetario Internazionale cosa avrei fatto io anche oltre a quello che è stato messo in questa finanziaria cosa avrei tolto beh avrei in prima cosa avrei tagliato la spesa pubblica in produttiva e qui forse mi rilaccio anche al discorso che faceva prima Michele c'è una questione anche di credibilità internazionale cioè se uno vuole fare il deficit del 2,4 non è sbagliato di per sé fare un deficit del 2,4 però bisogna dire all'Europa e ai mercati che noi stiamo continuando a fare i compiti a casa e siccome in Italia quando si è tagliata la spesa fino adesso si è tagliata principalmente in istruzione sanità in investimenti pubblici sarebbe il caso di cominciare a tagliare la spesa pubblica in produttiva e tra l'altro su questo siamo abbastanza avvantaggiati perché abbiamo avuto una serie di piani abbiamo avuto un piano redatto da Bondi poi da Cottarelli poi da Perotti e anche prima ci sono stati una serie di piani per ridurre la spesa pubblica in produttiva c'era un posto molto interessante sulla voce di qualche settimana fa perché è importante tagliare la spesa pubblica in produttiva beh perché se tagliamo questo tipo di spesa non andiamo a danneggiare il benessere dei cittadini secondo me in questo sono d'accordo con Michele andrebbero potenziati gli investimenti nella ricerca in particolare nell'istruzione sono d'accordo con lui l'università italiana è completamente sottofinanziata e ovviamente questi investimenti non andrebbero messi a pioggia ma in parte l'università italiana va anche ristrutturata diciamo che le università italiane debbano finanziarsi unicamente a livello europeo vincendo dei progetti europei va benissimo noi a Sant'Anna ne abbiamo già vinti un paio però noi vorremmo avere anche un supporto un'agenzia nazionale della ricerca a livello nazionale a livello italiano rilancierei ovviamente gli investimenti come vi dicevo prima non vorrei vedere nessuna forma di flat tax perché tutte queste cose che si leggono che la flat tax si paga da sola e via dicendo è una delle più grandi bufale che non è sopportata ad alcune evidenze empiriche e teoriche uno può fare la flat tax ma deve essere conscio che se si fa poi la flat tax ha un costo in termini di deficit e invece che fare la flat tax si potrebbe fermare lo svuotamento dell'IRPE cioè nel senso l'IRPE ormai è un'imposta progressiva ma viene pagata unicamente dai lavoratori dipendenti perché si è tolto un pezzo di qui si è tolto un pezzo di là quindi andrebbe secondo me ci vorrebbe una riforma della tassazione e in particolare non vorrei cadere nei luoghi comuni perché in genere ogni governo ma anche ogni economista dice che in Italia è necessario fare una lotta all'evasione fiscale ovviamente anch'io la vedo così però vorrei darvi un altro un altro punto cioè la lotta all'evasione fiscale non deve essere vista unicamente in funzione punitiva o una lotta all'evasione fiscale che diventa gravosa per il contribuente per cui si arriva in una situazione in cui spesso i furbi riescono a non pagare le tasse mentre il contribuente che più o meno paga si trova in situazioni difficili allora in questo caso ci viene in aiuto in particolare le nuove tecnologie e quello che dovremmo cercare e in parte si sta facendo anche in base alle politiche del governo precedente è una serie di riforme per aumentare quello che sia la cosiddetta compliance cioè il fatto che il contribuente tranquillamente di sua spontanea volontà paghi le tasse e se non le paga nella maniera corretta ci sia una segnalazione faccio un esempio se con la fatturazione elettronica si potrebbe pensare a una situazione in cui questa fatturazione elettronica se c'è un mismatch se non si collinea fra quanto è dichiarato fra l'impresa che ha emesso la fattura e l'impresa che la paga si potrebbe pensare a una situazione in cui l'erario segnala alle imprese in modo da poterle correggere in tempo quasi reale in modo da evitare meccanismi di evasione collegato anche all'innovazione e alla ricerca secondo me c'è un problema anche di bassa ricerca pubblica e anche di bassa spesa in ricerca privata e questa secondo me dovrebbe essere attivata anche a politiche di innovazione basate su missioni il che non vuol dire creare dei carrozzoni o creare dei campioni nazionali ma quello che si potrebbe fare è cercare di risolvere dei problemi che affliggono la nostra società faccio un esempio molto banale siamo davanti al cambiamento climatico che sta già avendo un impatto molto grande per la nostra società pensate ad esempio al rischio idrogeologico e ad altri problemi ad esempio incendi come sta succedendo in California risolvere il cambiamento climatico è una di quelle missioni che potrebbe richiedere una mobilizzazione di investimento privato e pubblico ed essendo per missioni potrebbe provocare degli sviluppi tecnologici in diversi settori quindi trans settoriali e potrebbe anche portare la creazione di nuove tecnologie nuove imprese nuova occupazione secondo me in tutto questo al di là della se ho ancora un minuto due un'altra cosa che secondo me non è una cosa da fare nella legge della nostra legge di bilancio ma è una cosa che l'Italia dovrebbe fare a livello di politica estera l'Italia deve partecipare attivamente al dibattito della riforma dell'eurozona perché è vero che i problemi dell'Italia non dipendono dall'euro i problemi dell'Italia vengono da lontano ma è anche vero che determinate politiche europee e il fatto che l'eurozona non funzioni molto bene aggravano non solo i problemi italiani ma i problemi di tutti e questo non va affatto millantando che dobbiamo uscire dall'euro non dobbiamo uscire dall'euro questo non va affatto sbattendo i pugni con Bruxelles questo va fatto con economisti italiani politici italiani che si mettono insieme anche con economisti francesi e tedeschi e cercano di lavorare a una riforma dell'eurozona perché se arrivi un'eurozona che funzioni sia meglio per tutti e presumo che questo tipo di miglioramento dell'eurozona porterebbe a più Europa e non a meno Europa butto lì qualche tipo di riforme che sono necessarie allora noi in Europa abbiamo un problema che la banca centrale europea non si comporta completamente con una banca centrale europea quello che andrebbe fatto è se ne parla già ma essere sicuri che si arriva ad un'assicurazione dei depositi europea abbiamo bisogno di un meccanismo questo lo chiede anche Draghi di backstop europeo cioè vogliamo evitare che crisi bancarie si trasformino in crisi dei debiti pubblici nazionali un'altra misura di tipo anticiclico che potrebbe riequilibrare gli squilibri all'interno dell'eurozona è un sussidio di disoccupazione europeo recentemente di questo ne ha parlato anche il ministro tedesco Holtz e abbiamo bisogno anche di maggiori investimenti pubblici europei cioè il piano Juncker non è sufficiente si può pensare ad un grande piano di investimenti pubblici europei che permetta di riequilibrare lo sviluppo all'interno dell'eurozona ora questo non vuol dire che questi investimenti pubblici devono essere gestiti dai politici italiani ad esempio questi investimenti pubblici possono essere benissimo gestiti a Bruxelles bene grazie a tutti e tre c'è tempo sufficiente per alcune domande dal pubblico che potete rivolgere ai singoli o a tutti e tre naturalmente e vedo già una vi chiedo per piacere di non di non fare degli interventi lunghi ma semplicemente appunto delle domande in modo da sentire cosa ci dicono i nostri tre oggi c'era una domanda laggiù volevo fare una piccola considerazione il motivo per cui non si fa la riforma dell'euro la riforma della governance europea è esattamente l'Italia cioè non si fa la assicurazione dei depositi perché nessuno in Europa si fida dell'Italia e del fatto che quell'assicurazione per i depositi venga usata surrettiziamente per fare imbrogli a cui tutti i governi hanno abituato i nostri partner da vent'anni oltre a questa parte noi siamo il paese che solennemente conciampi persona di straordinaria caratura eccetera aveva promesso all'ingresso nell'euro di tagliare il debito pubblico al di sotto del 100% prima del 2000 quindi questa è l'Italia di cui i nostri partner si ricordano che noi abbiamo la memoria del pesce rosso dall'altra parte no l'assicurazione contro la disoccupazione in Europa non si fa perché in Italia ci sono troppi latri e troppi furbi e i tedeschi non vogliono dare una cosa del genere in mano agli italiani e posso continuare su tante altre cose quindi il problema è prima l'Italia mette ordine a casa propria poi si può parlare tutto questo perché oggi come oggi l'Italia non ha assolutamente un bricio di credibilità a livello europeo no no dico questa la domanda è se è d'accordo con me ok sentiamo la domanda dai vediamo quando arriva la domanda prima ok la domanda la domanda Francesca grazie grazie sono Francesco Renne e volevo fare due domande a tutte e tre i relatori di fisco e di banche così andiamo al sodo nella lettera che ha affermato il ministro Tria rimandando rispondendo alla commissione europea c'è la penultima frase che vedo andando a memoria dove si dice che il MEF ha l'obbligo di monitorare l'andamento dei conti pubblici e in caso di sforamento di questo famoso 2.4 deve intervenire con manovre correttive in corso d'anno manovre correttive per correggere quel valore vuol dire una sola cosa fattibile patrimoniale straordinaria se è vero o no prima domanda seconda quale credibilità possiamo avere da questo dai vari collegati a questo DEF dove avendo fatto una scelta di scontro con la commissione europea con gli effetti sullo spread che vediamo la credibilità è un emendamento presentato in Parlamento per nascondere la polvere sotto il tappeto per mettere in condizione le banche non quotate di valutare i titoli di Stato al costo storico al valore nominale per non far emergere queste svalutazioni che significa dopare i valori di bilancio e la comparabilità delle banche e dopando il loro patrimonio di vigilanza ecco io mi chiedo come queste due cose possano generare serenità nel cittadino la prima e credibilità a livello europeo la seconda e voglio sapere cosa ne pensate voi no la mia non è attendente alla scuola certo cominciò io che faccio sì abbiamo detto di cominciare la prima cambiamo l'ordine esatto dunque allora ok se venga prima l'uovo la gallina riforma eurozone Italia prima io mi astengo mi astengo lo prometto mi astengo perché se no è troppo lunga adesso un'altra roba allora signori l'assicurazione sui depositi c'è c'è una direttiva 2014 è sviluppata a livello nazionale e c'è un progetto chiarissimo 2015 Banca Centrale Europea guarda cercarmi la pagina perché ho avuto un momento di dubbio basta che cerchiate voi stessi con Google c'è i problemi di attuazione sono tutti quei governi nazionali che non è proprio un gran problema basta cercare Bank Deposit Insurance Europe trovate subito sì ok va bene questa cosa c'è un unico problema che non è un automatismo cioè deve passare attraverso una decisione politica su cui c'è possibilità di veto che sono vere entrambe le cose c'è c'è il punto del veto ok Fabio ha ragione sul puntualizzare che c'è la possibilità di fermare il processo d'altra parte esiste le infrastrutture quindi insomma diciamo che non è un'assicurazione sui depositi in senso pieno alla Federal Deposit Insurance ma insomma non è il senso però stai ai due punti fondamentali fisco e banche ora una delle riforme più non dovuta all'approvata dai tempi del governo Renzi ma non dovuta al governo Renzi precedente una delle riforme perché è super tecnica e quindi sembra assolutamente poco importante in realtà è centrale è il fatto che come voi sapete noi in notità dall'anno scorso non votiamo più la si chiamava prima finanziaria dopo si chiamava sono già dimenticato ecco come si chiamava ragazzi stabilità grazie la legge di stabilità grazie ne ho anche fatte tre l'ultima si chiamava legge di bilancio ok da parte se sono partecipato al processo insomma si si è irresponsabile di tutto si ho fatto le parti peggiori le leggi di bilancio si approva tutta la legge di bilancio che vuol dire che il bilancio dello stato adesso è elevato a livello di legge vi può sembrare una stupidaggine ma vuol dire che il ministero dell'economia ha molto più potere rispetto al passato perché all'interno di ciascuna posta di bilancio il ministero dell'economia senza passare attraverso il parlamento cioè senza rialloccare soldi da una posta di bilancio all'altra cioè i soldi che diamo a Boldrini i soldi che diamo a Roventini non li posso spostare ma all'interno dei soldi che do a Boldrini o a Roventini io posso decidere di cambiare o posso intervenire attenzione cruciale intervenire anche per tagliare quei trasferimenti qualora questi siano in violazione della posta del deficit del livello di deficit a cui io mi sono impegnato quindi in punta di diritto come direbbero i gesti ma soprattutto da un punto di vista molto concreto il ministro dell'economia quando scrive non so con quale consapevolezza nella lettera guardate che noi possiamo intervenire per bloccare per assicurarvi che faremo il deficit al 2,4 e non arriveremo al 3,4 che prevede Michele lo può fare già senza intervenire fiscalmente cioè senza patrimonializzare o senza fare nulla deve semplicemente andare adesso qui arriviamo al problema da ciascuna voce di spesa ciascun ministero ciascun centro di spesa e dire tu dovevi spendere 100 spendi 80 io ministro dell'economia posso vincolarti a farlo perché se ti permetto di spendere 100 allora tu fai in violazione del numero di deficit questa possibilità esiste da quando esiste la legge di bilancio e abbiamo superato la legge di stabilità ora io vorrei semplicemente sottolineare questo è importante che questo è assolutamente inverosimile però lo capiamo tutti che è inverosimile è inverosimile che il ministro dell'economia vada in tutti i glangli dello stato e lo blocchi quindi il problema esiste ne ha lo strumento non ha scuse come posso dire e io non sono certo che capiscano quello di cui non sono certo che i decisori politici abbiano capito l'impegno che hanno preso firmando quella lettera ma il ministro dell'economia ha gli strumenti per intervenire bloccare la spesa in termini automatici o pseudo automatici con alcuni vincoli nel senso spostare non è che possono decidere per esempio possono decidere di spendere di meno per il reddito di cittadinanza non possono decidere di spendere di più sulle pensioni e di meno per il reddito di cittadinanza devono stare hanno quei vincoli lì secondo punto sulle banche vabbè sulle banche lì siamo quella roba lì tanto sulle banche è molto probabile che la cosa non passi neanche noi ci prendiamo lì una semplicemente derogare ai principi europei per la definizione delle poste patrimoniali all'interno degli istituti di credito di cui le BCC fanno parte aggiungo di cui le BCC fanno parte e faranno sempre più parte perché con la riforma delle BCC rilevano da un punto di vista regolamentare l'unione delle BCC è assolutamente impossibile quindi se anche il governo dice questa cosa lo dice sapendo che non potrà essere applicata sì ma è completamente cambiata assolutamente hai ragione c'è il Presidente di Tramonti ma attenzione è cambiata completamente la supervisione i poteri di supervisione della Banca Centrale Europea e degli istituti europei ultimo punto e questo ultimo punto è voi potreste dire ok va bene le cose non vanno benissimo però c'è la possibilità di prendere un po' il meglio del passato e migliorare le cose uno degli argomenti questo faceva Andrea prima era quello di riprendere un argomento del governo non era il tuo argomento dicevi il governo si è impegnato a riprendere alcuni siccome siamo tutti d'accordo che mancano gli investimenti a riprendere alcuni degli investimenti che non sono stati fatti del passato cioè poste di bilancio che esistono in passato e spenderli adesso per aumentare quindi quei 3 miliardi di investimenti che noi vediamo nella legge di bilancio 2019 sono un limite inferiore perché ci può aggiungere quello del passato questo è falso vi spiego perché è falso è falso dal punto di vista tecnico è falso nel senso che noi sappiamo chiunque abbia un'azienda o chiunque sa benissimo che il bilancio si fa per competenza e non per cassa e anche il bilancio dello Stato si fa per competenza e non per cassa tranne che per gli investimenti perché capite perché gli investimenti si fanno per cassa perché se tu hai un orizzonte di determinazione così lungo per cui io oggi faccio un legge di bilancio nel 2019 per investimenti che probabilmente succederanno nel 2020 21 dove quando quegli investimenti li vado a fare se vado per competenza dovrei metterli in carico al 2019 il che rende la finanza pubblica assolutamente impossibile è infatti il modo in cui questo viene derogato nella prassi è che gli investimenti si utilizzano le poste di investimenti si mettono a bilancio solo quando vengono spese perché tutti sanno qual è il giochino io metto investimenti poi non gli faccio uso quella leva per aggiustare i conti fondamentalmente quindi noi dobbiamo capire e dobbiamo essere meno consapevoli del fatto che quando si dice prendiamo investimenti già deliberati legge bilancio di passato ma che non sono stati fatti si sta parlando di fare una cosa che è impossibile a meno che non si faccia passa per un voto in Parlamento in cui si cambia il numero del deficit si cambia il numero del debito e poi si può fare ma si passa per quella via lì se no non si può fare dico questo perché a prescindere da quanto ci interessino meno gli investimenti almeno dobbiamo essere consapevoli di quello che si può fare e quello che non si può fare uno che ti dice usi gli investimenti deliberati ma non spesi come se fosse un'azienda non conosce la finanza pubblica ovviamente questo non è il caso di Andrea è il caso di chi l'ha detto Sulla questione VG ho detto quello che penso quindi non mi sembra una questione credo che anche qui faccio il giamburrasca necessario c'è una cosa da riformare fondamentalmente vera nell'Eurozona questo è un altro discorso che viene da ambienti con i quali cerchiamo anche di essere fra un cui Andrea Roventini si identifica o ha scelto di essere associato ed è un discorso falso un discorso menzognero un discorso retorico che va chiamato con quel nome questa chiacchiera della riforma dell'Eurozona che vedo afferrare poi abbiamo i giornali di regime tipo 24 ore che ospitano dibattiti più o meno ridicoli organizzati a Luigi Zingale su riformiamo l'Eurozona è una bagianata sono bagianate perché? e si la tocco piano ma ragazzi ci smettiamo di raccontarci bugie perché poi tutte queste cose finiscono per l'elenco Andrea ne ha fatto due esempi ma sono tutti uguali hanno tutti la stessa cosa l'Europa deve darci più soldi bene popolo italiano volete che l'Europa come dire dia più soldi votate per il partito federalista europeo cedete potere potere politico e fiscale ai cosiddetti che non lo sono burocrati europei punto fine perché vedo continuamente giornali di tutti i tipi pubblicare pomposi articoloni pieni di menzogne da futuri o da cattuali candidati alla presidenza della Consum si ci batto vediamo se mi querela ok dall'abitudine mi quereli ok pieni di menzogne sul fatto che noi non siamo gli Stati Uniti d'America no non siamo gli Stati Uniti d'America e lo sapete perché? perché qualcuno non vuole gli Stati Uniti d'Europa non che io personalmente li voglia sono una persona molto più realistica e credo che certe cose si facciano lentamente il giorno che avremo un linguaggio comune per esempio tutti parleremo ovviamente inglese perché non c'è altro io preferirei il veneziano ma il doge mi fregò l'unica lingua che parlo con l'accento appropriato tutte le altre ho l'accento veneziano quindi io preferirei il veneziano ma hanno detto che a Hamburgo hanno difficoltà e vabbè ci acconteremo l'inglese quindi smettiamola con questa storiella cioè volete riformare l'orzona? sì bisogna fare un'unione bancaria europea per davvero sapete come si fa? smettendo di fare i trucchetti sulle banche nazionali perché è inutile continuare a puntare le dita sui tedeschi che pure loro le fanno con il loro l'Andesbank noi siamo i maestri siamo i capi fila quindi se vuoi diventare un leader europeo sulla questione lo diventi nei fatti fai i compiti per casa meglio di tutti riaggiusti il tuo sistema bancario eviti i trucchetti e qui siete dentro tutti MPS eccetera banche popolari via da Bossi a Renzi è tutta una festa e mostriamo come si fa l'unione bancaria europea signori è così Citibank è una banca che c'è in tutti gli Stati Uniti d'America capite non possiamo avere un'unione bancaria mi ricordo discutendolo proprio con il mio ex maestro Mario Draghi di questo Mario giustamente diceva Michele non lo posso mica fare io ha ragione inutile andare a chiedere all'ICB di fare ciò che l'ICB non può fare capite fare i pezzettini fare sì che Deutsche Bank Santander Credilionet cominciano ad essere presenti davvero in questo paese tanto quanto le banche intese in cambio di banche intese essere presenti a Parigi è una cosa che devono decidere il signor Conte al momento e il signor Macron non lo può decidere Mario Draghi quindi è inutile continuare a chiedere al terribile banchiere cose che non gli pertengono e che lui di suo siccome tanti difetti ha come tutti gli esseri umani come me ma quello di essere scemo non ce l'ha ok sarebbe contentissimo di fare quindi smettiamola di nuovo spaziamo dal dibattito pubblico questa retorica sulla riforma perché sono una sequenza di bugie lo stesso per i sussidio di disoccupazione vogliamo i sussidio di disoccupazione europeo bene uniformiamo a standard olandesi la gestione dell'amministrazione pubblica le regole del mercato lavoro eccetera voglio vedere il signor Di Maio che voti becca ad Avellino offendetevi pure l'ho fatto apposta quindi davvero bisogna togliere di mezzo e questo mi dispiace allora questa cosa è il regime forfettario io sono noto per essere odiato dai microimprenditori perché dico che occorre lasciare che le regole del mercato li decimino i regimi forfettari non è caso che si sia imitati i tramonti questo è pessimo accattonaggio di cattolicesimo stile vaticano 1600 poverini siccome sono improduttivi gli taglio le tasse gli faccio fare evasione fiscale che vado a fare un altro lavoro tradotto in italiano che vado a fare un altro lavoro cos'è sta roba che siccome sono poco produttivo cioè questo veramente mi ricorda la signora questa estate in Salento che mi diceva è vero vediamo tutti le tasse siamo troppi poveri non ci possiamo permettere le tasse sì signora ma vi potete permettere l'audi cerchiamo di togliere questa ipocrisia i regimi forfettari sono sussidi di una classe politica che compra voti dalla parte improduttiva del paese volete sapere come crescere si cresce trasformando i 4 milioni 5 milioni 6 milioni di improduttivi in produttivi questa è la crescita economica tutte le altre sono chiacchiere la crescita economica è quella roba lì è quel processo chi ha letto l'ideologia tedesca adesso sa chi cito che cambia lo stato di cose esistente lui lo chiamava comunismo invece era la crescita economica la crescita economica è quella serie di incentivi e di azioni che prendono l'improduttivo meccanico di Caltanissetta e lo trasformano in un produttivo ingegnere da qualche parte forse anche Caltanissetta si riesce a fare l'impresa lì ma questa è la crescita economica la decrescita infelice l'accattonaggio la miseria la politica mafiosa è quella che fa come li hanno chiamati mi sono scordato per sé il nome i regimi forfettari e poi li amplia è quello rendetevene conto cioè se non si riesce a mettere insieme queste due cose che inventandomi tasse e esenzioni speciali per chi è improduttivo li mantengono nell'improduttività creo incentivi a non essere produttivi creo incentivi a essere furbi creo incentivi a stare sotto radar allora non capiamo da dove venga la crescita economica l'enfasi ce la sto mettendo apposta queste cose vanno stampate in testa vanno dette con coraggio o il paese non ne uscirà più vanno dette e sfido chiunque a dimostrarmi che ho torto andate a vedere cos'è la Cina e perché è cresciuta ed è passata in 40 anni ha fatto 700 anni di sviluppo economico perché ha avuto il coraggio di accettare anche i costi sociali e per carità non è che sia il modello hanno fatto questa cosa gigantesca anche perché avevano hanno un regime politico di un certo tipo che non sto raccomandando ma noi avevamo un problema infinitesimo rispetto a quello cinese questi dovevano riuscire a passare 1200 milioni di persone 22 Italie da una condizione di vita da 1200 alla condizione di vita del 2000 noi dobbiamo passare 10 milioni di italiani 15 da condizioni di vita di produttività nel 1970 a condizioni di vita di produttività nel 2010 quindi cerchiamo di mettere tutto in proporzione però è questo di cui abbiamo bisogno questa è la crescita e questa è la risoluzione del problema della povertà questo pietismo che noi combattiamo la povertà con i trasferimenti assistenziali ma davvero lo chiedo onestamente a Andrea e Filippo davvero ciò che voi avete studiato vi dice che si fa così dove nel mondo abbiamo mai risolto il problema della povertà in quella maniera e poi stiamo attenti a utilizzare le parole cioè quando diciamo povertà ci si immagina milioni di persone che vivono nelle condizioni di Calcutta in Italia Calcutta ok e non è così non è così certo ci sono persone che vivono in condizioni economiche disagiate ma con redditi effettivi pari viste le zone dove vivono a mille euro a Bologna prendiamocene conto cioè di cosa stiamo parlando e ricordiamoci di nuovo il proverbio cinese che ho usato anche l'altro giorno che mi è sempre piaciuto se vuoi sfamare una persona per un giorno regalali il pesce se vuoi sfamarlo per tutta la vita insegnagli a pescare ecco il reddito di cittadinanza è regalare pesce marcio Andrea vuoi rispondere anche tu rispondo alle domande e in parte riprendo alcune cose che ha detto Michele allora parto dalle cose più semplici la sua domanda sul discorso della patrimoniale penso che Filippo l'ha già data una spiegazione molto tecnica quello che le posso dare io che non è tecnica ma quella di Filippo è che non penso che se un governo vuole come la mette diciamo vessare i suoi cittadini debba ricorrere per forza alla patrimoniale sono tantissimi meccanismi che vanno dall'aumento delle tasse alla benzina va al blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici oppure si tagliano gli stipendi dei dipendenti pubblici come è avvenuto in Grecia quindi non penso che questa sarà l'unica cosa che potrebbe fare questo governo magari non è neanche necessario che la faccia nel senso che non è detto che dal 2-4 si vada al 4,2 questo poi non lo so se diciamo la risposta del governo non era completamente secondo me non era fortissima per togliere i dubbi dell'Europa per quel che riguarda le banche sono d'accordo con quello che ha detto con detto Filippo qua vorrei dire però una cosa qui c'è un problema più generale sul mark to market diciamo che l'introduzione del mark to market ha creato almeno quello che vedo io ha creato instabilità sui mercati finanziari quindi bisogna ripensare ma questa è una questione di regolamentazione mondiale se abbandonare questo mark to market no perché cade circoli viziosi quindi come c'è delle strette creditizie non quello che c'era prima scusa c'era scusa c'era scusa c'era scusa c'era scusa c'era scusa c'era cerchiamo di evitare i scambi abbiamo due problemi abbiamo due problemi abbiamo radio radicale abbiamo lo stesso quindi con il proffo non si interagisce sul regime forfettario sono d'accordo con Michele infatti su alcuni temi siamo d'accordo e qui c'è anche molta evidenza empirica sul fatto che c'è il cosiddetto problema di the best and the rest cioè se voi guardate le statistiche il supporto delle imprese soprattutto dopo l'ultima crisi sta diventando molto grande quindi questo in diversi paesi ma anche in Italia cioè ci sono molte imprese improduttive che stanno sopravvivendo quindi in questo caso farle sopravvivere o con l'evasione fiscale o con il regime forfettario o puntando unicamente sulla riduzione del costo dei lavori invece che sull'innovazione non mi sembra una strategia illuminante poi diciamo dulcis in fundo parliamo del dibattito sull'eurozona non so a chi mi accompagnavi Michele perché diciamo il dibattito sulla riforma dell'eurozona è un dibattito che avviene anche in sede internazionali avviene in sede politica sono state proposte delle riforme ad esempio dalla commissione europea che non sono state considerate sono state proposte delle riforme dallo stesso fondo monetario internazionale il fatto che l'euro non funziona non vuol dire non va visto nell'ottica di facciamo funzionare l'euro per farci guadagnare l'Italia noi dovremmo modificare l'eurozona e questa è una cosa che va fatta a livello politico quindi non va fatto da Mario Draghi e non va fatto né da me né da te va riformata a livello istituzionale e in questo l'Italia secondo me ha perso un'occasione perché Macron aveva lanciato una serie di proposte per riformare l'eurozona e l'Italia invece di fare inutili polemiche giorno per giorno insultando Macron in ogni possibile modo avrebbe dovuto forse seguirlo o comunque contribuire a questo dibattito e questo è un processo politico con la sua domanda che non mi scusi non mi sono dimenticato il nome secondo me lei dà una visione molto parziale cioè che non si fa un'assicurazione dei depositi e non si riforma non si fa la disoccupazione europea per colpa dell'Italia beh allora qui innanzitutto sull'assicurazione dei depositi è vero che c'è non funziona bene può essere migliorata io stesso ho sentito Draghi la scorsa primavera chiedere che venisse introdotto eravamo a Firenze il backstop o venisse potenziato venisse fatta in maniera effettiva questa assicurazione sui depositi innanzitutto non so se è un problema solo dell'Italia se vogliamo proprio prendere la sua posizione perché allora a questo punto possiamo anche parlare dei pigs perché diciamo se consideriamo la crisi greca ha creato dei problemi alla Spagna al Portogallo e all'Irlanda e io non penso che il nord Europa in questo momento si fidi completamente del Portogallo della Grecia o della Spagna e di nuovo l'assicurazione dei depositi non l'ho proposta io insomma c'è un dibattito su Voxeo quindi non è un dibattito di economisti da due soldi italiani c'è un dibattito su Voxeo ed è stata proposta allo stesso ministro delle finanze tedesche per darvi l'idea che è un dibattito ampio e secondo me l'Italia sbaglia a livello politico e anche a livello economico a non farci parte perché altrimenti si rischia di cadere in certi dibattiti sterili in cui abbiamo in Italia dove purtroppo si sta lì ancora a parlare se dobbiamo uscire dall'Euro o no sono dibatti secondo me folli perché l'Italia non può permettersi di uscire dall'Euro e l'Italia insieme agli altri paesi in maniera collaborativa deve modificare le regole dell'Eurozona che sotto gli occhi di tutti non funzionano con le domande non so se riusciremo a coordinare i temi ma intanto diamo la parola allora sì sì la domanda sarà anche sintetica allora tra il tasso di crescita del PIL e il tasso di crescita della popolazione vi è una correlazione quasi perfetta in Italia così come anche in altre economie occidentali e non entrambe le serie storiche sono in declino ora vi chiedo senza debito come può crescere il PIL di uno Stato se non cresce la popolazione e se sì come grazie Giappone risposta è rapidissima in assenza di debito in assenza di debito pubblico o privato Irlanda vorrei soltanto dire porre l'accento sul discorso della giustizia come si fa a intercettare gli investimenti in un paese dove non funziona la giustizia i processi vanno avanti in vent'anni io stesso ho un'esperienza diretta dove devo arrivare ancora a primo grado su un'obbligazione di una società che è andata in defonduzione e 10 anni ancora dobbiamo arrivare a primo grado perché nessuno ne parla allora chi è che viene a investire qua dove i processi non funzionano funzionano soltanto per insomma quelli che hanno gli avvocati che hanno un certo liceo quello è un discorso fondamentale poi la situazione del sud è qua cioè riformare una situazione come Napoli non so se abbiamo idea di come funziona Napoli tutto funziona tutta la sua irregolarità cioè fallisce il sud c'è una domanda lì vedo poi forse uno là in fondo poi forse potremmo anche è possibile no le è sfuggito questa ok le invertiamo ma le prendiamo molto sinteticamente negli ultimi anni le leggi finanziarie a partire dal 2008 hanno previsto delle misure di detassazione del salario di produttività a partire dal 2015 c'è una misura strutturale di detassazione che consente anche le misure di welfare aziendale chiedo questo queste misure nell'ultimo DEF sono assenti secondo voi sono misure che servono o no? grazie ritorniamo a questa che potrebbe anche essere l'ultima perché non so che ora ci cacciano dunque le mie domande sono un po' più terra terra su alcuni punti che mi sono perso allora la prima per il professor Roventini quando lei parlava di ridurre la spesa pubblica improduttiva volevo chiedere se mi può fare qualche esempio pratico di cosa intende per spesa pubblica improduttiva che tipo di spesa tagliare invece per quanto riguarda il professor Boldrin volevo chiedere allora lei parla sostanzialmente ha parlato di cercare di mobilitare cercare di spingere i privati a fare investimenti anche indebitandosi volevo chiedere come pensa che questo si possa fare con quali mix di politiche economiche si può ottenere questo grazie quindi darei la parola di nuovo agli speaker magari dando la facoltà di rispondere solo a quello a cui ritengono di rispondere possiamo cominciare da Andrea che ha una domanda anche specifica sulle spese improduttive e poi continuare riguardo al tasso di crescita del PIL della popolazione basta quindi non fa test io ho detto entrambe le serie storiche sono negative nel caso di Irlanda l'Irlanda è tra i paesi europei con la più alta crescita però diciamo posso rispondere rispondo io poi vedi se ti va bene la mia risposta diciamo se vogliamo considerare il tasso di crescita del PIL della popolazione secondo me non sono indicatori molto utili nel senso dovremmo considerare il tasso di crescita del PIL pro capite ora io vorrei che crescesse il PIL pro capite italiano non che il PIL italiano cresci perché come qualcuno negli anni 20 negli anni 30 voleva che facessimo 10 o 20 figli quindi io mi baserei su questo ok sulla giustizia come riforma strutturale questo secondo me è la riforma strutturale forse più importante che questo paese ha bisogno io stesso nel mio piccolo ho avuto esperienze mi ricordo anche mio papà aveva un'azienda e notavo immediatamente che quando c'erano dei contenziosi in Germania venivano liquidati in un mese due mesi in Italia andavano avanti per anni purtroppo in questo in questo paese io direi almeno dal almeno dal 1994 si è cercato di fare di tutto per sabotare la nostra giustizia quindi ci sono moltissime cose per per migliorarla detto detto questo io non vorrei pensare che il sud è irriformabile e quindi non possiamo fare nulla per il sud è un problema è un problema che ci trasciniamo dietro dall'unità d'Italia in alcuni decenni abbiamo fatto meglio ultimamente stiamo facendo molto male io vorrei che il problema del sud venisse risolto e si mettesse in campo anche delle politiche per il sud non vorrei rinunciare anche perché è un pezzo grande del paese sulla detassazione salario per la produttività non sono misure che mi vedano particolarmente favorevoli non penso che siano sufficienti a far ripartire la produttività e la crescita del nostro del nostro paese in generale gli incentivi orizzontali alla crescita della produttività non è che funzionino benissimo esempi di come ridurre la spesa pubblica improduttiva è un esempio molto stupido e la cifra è molto piccola ma uno può pensare il tipico esempio è Autoblu uno può pensare tutte le società partecipate uno può pensare di far funzionare meglio la centrale unica di acquisto per la pubblica amministrazione e così via comunque quello che per me è un po' bizzarro è che in Italia abbiamo collezionato una serie di rapporti su come tagliare questa spesa pubblica improduttiva abbiamo una serie di rapporti fatti ad esempio anche da Giavattis su come tagliare i sussidi alle imprese e questi rapporti non vengono implementati o non vengono discussi completamente dai governi incluso questo c'è un'altra cosa mi sembra di no sì direi di sì Michele anche lui aveva una domanda ad hoc sulla questione specifica del giovane Otto lì in fondo che continua a chiedere ha già risposto Andrea in pil per capita i fenomeni l'Irlanda guarda che io non ho scelto gli esempi a casa se ti guardi i dati della popolazione dell'Irlanda vedi che l'Irlanda comincia a crescere dopo anni drastici di politiche fiscali e di politiche industriali attorno all'85 la sua popolazione è praticamente costante fino alla fine degli anni 80 quindi se vuoi proprio un esempio ce l'hai e anche adesso negli ultimi anni la popolazione dell'Irlanda sono andato a controllare ma me lo ricordo ha avuto c'è stato un particolare salto di ritorno di irlandesi negli anni 90 2000 cresce lentissimamente quindi l'esempio va Giappone ovviamente è lo stesso il PIL per capita giapponese il PIL per ora lavorata in particolare cresce a numeri che non sono quelli degli Stati Uniti sono molto vicini ed è tutta crescita tecnologica perché infatti avendo una popolazione quindi bisogna stare molto attenti a non fare confusioni fra aggregati e per capita la produttività a Toyota non cresce per effetto del folle debito giapponese che infatti è servito a nulla e ha prodotto assolutamente nulla sulle politiche ma guarda la risposta banale ovviamente crei le condizioni attraverso cui quegli investimenti avvengono in tutto il mondo cioè avvengono anche in Italia il problema italiano quindi chiediamoci cos'è che porta questo o quell'altro a indebitarsi prendere i soldi del papà vendere a volte la casa o ipotecarla per aprire l'azienda o per aumentare l'azienda lo viene portato a fare queste cose da una varietà di circostanze fra cui ovviamente la prospettiva di essere in grado di produrre la cosa che vuole produrre a costi ragionevoli di poterla vendere di avere le autorizzazioni amministrative per farlo eccetera eccetera cioè il complesso di tutto l'interno dibattito ognuno dei tre ha elencato alcune delle cose il vero problema italiano è che ormai abbiamo un cumulo di politiche istituzioni regole abitudini chiamali come vuoi tu che rendono sempre più difficile fare quel tipo di investimenti non è che non se ne facciano grazie a Dio qualcuno se ne fa ancora anzi ma che li fanno diminuire nel tempo che ci sta uccidendo l'esempio mio era ovviamente costruito per cercare di far capire che la mitologia del moltiplicatore da spesa pubblica assistenziale tale è e che non si parla per caso quando si dice ecco se vuoi mi sembra palese questo al di là di tutti questi dibattiti di lana caprina se lo spread aumenta o non aumenta il tasso dei mutui è palese da annunci pubblici oltre che da dati che operazioni di finanza pubblica mal assortite o suicide o addirittura pericolose come quella in corso aumentano il costo dell'acquidità e del credito per il paese che le fa punto fine ora io non sono fra quelle persone che ritiene che basti abbassare i tassi di interesse e spuntano investimenti meravigliosi però sono una di quelle persone che crede che quando sei in un paese poco produttivo i margini sono bassi e hai già difficoltà a investire variazioni di 100 200 300 punti che poi le variazioni dello spread sul titolo di debito pubblico si amplificano vengono trasmesse quelle lì sì con un moltiplicatore dal sistema bancario a chi prende a prestito danneggiano al margine ovviamente una variazione di 300 punti nello spazio di un anno nel costo del credito danneggia come se danneggia quindi se vogliamo una cosa immediata la possono voltare e girare quanto vogliono in televisione questa cosa dello spread se continua ancora un po' se non c'è la capacità da parte a questo punto del governo italiano di ristabilire un minimo di credibilità e di fiducia ci troveremo di fronte a situazioni di credit crunch serie nello spazio dei prossimi sei mesi non ci sia dubbio alcuno poi sei mesi saranno sei mesi e tre settimane o cinque mesi e due fa poca differenza il punto vero drammatico ed è bene che se lo ficchino in testa questi pseudo economisti dal crostarolo al water è quello ed è bene che se ne rendano conto stanno creando la recessione e ne sono perfettamente consapevoli solo che essendo degli irresponsabili continuano a farlo sì è colpare credo di aver risposto sono due ore che ci ascoltate due ore e zero e anche da padrone di casa quindi alla percezione di quando saremo cacciati fuori infatti siamo cacciati fuori tra un minuto e quindi mi prendo 30 secondi per ciascune due punti nessun argomenta sulla crescita senza debito nessun argomenta che un funzionante mercato del credito non generi debito che quindi il debito sia necessario per creare investimenti soprattutto per il fatto che tipicamente le buone idee non seguono i soldi e quindi chi ha le buone idee magari non ha i soldi è vero il contrario sono i soldi che seguono le buone idee quindi il tema il problema del paese è come andiamo a spostare risorse per finanziare quegli investimenti che mancano mancano in quantità e mancano anche in allocazione ora per fare questo ci riporto dentro la discussione di prima e quindi teniamola lì ora naturalmente ci sono però due livelli cioè la quantità dell'investimento e poi cosa te ne fai con quei soldi una delle cose più importanti che noi abbiamo valutato che noi abbiamo scoperto è che quando quei soldi vengono poi riversati si tratta non solamente di adottare tecnologia ma di organizzare il lavoro intorno a questa nuova tecnologia il punto del beneficio fiscale al salario di produttività piuttosto che al welfare aziendale era quello era creare uno strumento per rifavorire la riorganizzazione aziendale cioè un fluidificante dal fatto che non possiamo pensare che con una tecnologia così dirompente noi possiamo organizzare il lavoro nella maniera in cui lo organizziamo da 30 anni in cui peraltro funziona male e allora pensi a esattamente come fluidificare trasformare spingere in là quella trasformazione questa è l'idea per cui la detassazione del salario di produttività e del welfare viene poi introdotta ora e qui il mio punto invece di senso con Andrea e questa cosa viene fatta in termini automatici perché per tutta la storia che vi ho raccontato almeno nei miei interventi oggi per tutta la difficoltà di questo paese di creare investimenti specifici di identificare quello che serve e quello che non serve tutto questo è non solo difficile ma abbiamo una limitatezza nella nostra capacità amministrativa di farlo e allora in questo paese forse dovremmo considerare che il tipo di incentivo orizzontale come l'ha definito Andrea cioè automatico come lo definisco io forse paga di più rispetto a quella marea di incentivi che hanno costellato tutta la nostra politica industriale o supposta tale e che hanno prodotto assolutamente nulla se non a limite ruberie oppure debito pubblico aggiuntivo su questa lieve nota vi saluto tutti e vi ringrazio per essere stati qui e averci ascoltato che dire ringraziamo i relatori per la qualità degli argomenti per il ritmo che ha tenuto la sala inchiodata per due ore ma anche per le idee che sono emerse perché non ci siamo limitati oggi solo a commentare la manovra economica ma alcune idee che sono uscite e in particolare voglio ringraziare il professor Boldrin per la sua brillante intuizione su questo sistema pensionistico tailor made diciamo che è emersa oggi e per quella quell'analisi che ci ha portati a capire da dove inizia la curva della nostra produttività quindi ci ha fatto risalire un po' indietro nel tempo quindi vediamo che la responsabilità non è così recente e ringrazio il professor Taddei oltre per l'ospitalità per questa vivace difesa del REI e della Fornero e per il portato della sua esperienza politica recente il professor Roventini per questa intuizione questa idea di questa agenzia nazionale della ricerca che potrebbe essere in effetti un modo per rilanciare e per questa sulla difesa dei tagli della spesa pubblica improduttiva nonché per aver escluso la patrimoniale che questo tranquillizza qualcuno e ringrazio da ultima ma non da ultima la professoressa Bertocchi per la magistrale conduzione dei lavori di oggi e ringrazio la l'università John Hopkins degli studi internazionali avanzati ringrazio tutti gli intervenuti e un arrivederci ai prossimi eventi formativi di Via Italia grazie grazie a tutti